You're live! Siamo live Zelda. Sei contento? Siamo live anche su Twitch. 3 2 1 siamo live anche su Twitch. Si è messo avanti al monitor Zelda. Non vedo un cazzo. Ha proprio di due a metterti? Sembra che l'hai fatto apposta. Adesso guardiamo perché ho risultato tutto il volo per streamare in contemporanea. Vediamo cosa succede. Intanto guardiamo se ho rimesso scene e tutto quanto corretti su Twitch. Sì ok. Ah perché c'ho Steam che va. No io c'ho Steam. Sei pazzo. Che siamo pazzi. Ok. Eh non andavo un cazzo ma perché stavo scaricando su Steam. Mica mi hai preso un colpo. In realtà non va benissimo lo stesso. 12.000. Ok si è ripreso. Dovrebbe essersi ripreso. Dovrebbe essersi ripreso. Speriamo. Giorno sale. Non va tenuto l'anteprima. Sei un idiota YouTube. Sei veramente un idiota. Perché devo salvare le cose due volte? Porca troia. Una roba che non capisco. Devo sempre salvare le cose due volte. Se no non le tiene. Sapevo perché. Finiva così. Ok adesso dovrebbe essere a posto. Ah ciao Mattia. Altro Mattia. Ciao Shadowlight. Ok. Dovremmo comunque essere sia su Twitch che su YouTube. Per chi è interessato. Ciao Trackon. Ok. This is best. Ok. Allora. Ok. Allora. I near con la barba non vanno d'accordo. So me da cazzo a far passare il cavo. il 10 aprile tra l'altro oggi ho letto che esce l'early access di incursion red river che è l'ex project quarantine quindi ci toccherà giocarci allora fammi spammare su soliti posti poi continuiamo con la nostra ricerca non lo so dei guns non lo so non ho troppo voglio fare cose impegnative potrei cazzeggiare e basta e niente tiene un'altra prima di merda vabbè sei un idiota potrei cazzeggiare e basta adesso vediamo un attimo cosa fare le kill di notte l'ho finito quindi potrei metterli sperimenti con le piattaforme? ma guarda ti direi di sì ma tanto sai che li riprenderò perché perché va così quindi per il momento sì per il momento sì comunque c'è la chat che è un po' troppo a vorrei tipo tagliarla così ok no è andato sui viewer così più o meno così ok perfetto direi di sì ma tanto sai benissimo che prima o poi farò cosa erano deciso di andare su per nab dovrò streamare su per nab dovrò iniziare a streamare anche su per nab sì quello sarebbe male no comunque sì ho più o meno terminato gli esperimenti però vabbè le conclusioni le trarrò oggi devo registrare un video per i nostri nani barbuti sporcaccioni e quindi le trarrò lì probabilmente le conclusioni dovresti provare a streamare su telegram anche su twitter anche su linkedin anche su redd ci sono un sacco di posti dove puoi streamare adesso ti fanno streamare praticamente dappertutto praticamente dove vuoi ho sentito parlare di beautiful light sì lo proverò se me lo fanno provare perché non si può giocare adesso devi essere invitato nel play test o cose del genere se non sbaglio almeno prima era così se non ti invitano non puoi giocare da quello che mi ricordo e che avevo capito quindi speriamo la richiesta l'ho fatta l'ho fatta anche un paio di volte secondo me però devo decidere loro non dipende da me ah incursion red river in realtà è single player cooperativo cioè o single player o cooperativo ero convinto fosse online invece invece no sembra leggermente migliorato anzi allora o è migliorato oppure hanno fatto specialmente un trailer più bello di del primo che avevano rilasciato perché prima era veramente una merda incursion red river e il 10 aprile c'è giusto no questo è il video vecchio 10 aprile sì e costa poco 16 dollari quindi almeno ci sta e soprattutto è completamente offline puoi giocare offline con i server in locale e hai tutto salvato sotto pc quindi anche senza internet puoi giocare che ormai conta poco alla fine chi fa i giochi se ne sbatte il cazzo proprio per quello perché ormai chi è che ha problemi ad essere connesso all'internet no? sarà una persona su mille quindi se ne sbattono il cazzo però almeno è una roba da apprezzare il fatto che ti facciano giocare offline anche se poi sia lato pratico infatti la gente che si lamenta c'è ok capiterà va bene una persona su mille mi spiace c'è una casa purtroppo non può guardare quella roba non può star lì a cambiare le proprie infrastrutture o il proprio sviluppo per una persona su mille però diciamo appunto è apprezzabile mettiamola così e sembra effettivamente migliore rispetto all'ultimo trailer sembra fatto un pochino meglio e apprezzi il fatto che non si siano buttati per forza a fare online ah il fatto che è offline insomma se non ci sono veramente tanti 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 contenuti diventa iper noioso la svelta però apprezzo che non si siano buttati a fare il solito extraction shooter solo perché tutti giocano all'extraction shooter cioè è il solito gioco OPP è un extraction credo di sì però essendo offline in realtà non credo sia un extraction credo che vado più a missioni credo che sia una roba un po' più classica non ne sono sicuro in realtà in realtà non ne sono sicuro is a tactical first person extraction shooter come ne ho detto ufficialmente extraction shooter extraction shooter ciao frontispizzi grazie mille per il sub e purtroppo i tts io non ho capito perché non vanno non so veramente che cazzo farci non riesco a capire perché già non vanno i tts già non è che non vanno i tts non vanno tutti gli alert non va proprio il il canale audio dove ci sono gli alert e non capisco perché quindi portate pazienza ma non ho risolto stiamo parlando di incursion red river non costa un cazzo sì 16 dollari infatti più che onesto cioè per quello alla fine ormai sono arrivato al punto che i giochi di supporto mettiamolo così quindi suggerisco ci faccio video eccetera cioè in base a quanto mi stanno simpatici loro c'è un cazzo da fare quanto sono tipo trasparenti comunicativi quanto si capisce che non cercano di inculare la gente tutte queste cose cioè ormai è diventata la cosa principale da guardare un videogioco prima non c'è un cazzo da fare c'è anche qua guarda che schifo c'è l'omino con la spalla tutta storta però vedi cioè preferisco un gioco del genere pve 16 dollari con lo sviluppatore che è su discord che scrive lui e ti dice cosa sta facendo che non cerca di incularti cioè preferisco una roba del genere a solito extraction online abbiamo progetti di fare tutto faremo tutto il nostro gioco avrà tutto e poi invece ovviamente una merda ingiocabile quindi c'è fra i due ormai preferisco questo ovviamente quelli la l'altra tipologia di gioco te lo fanno pagare 30 40 euro quindi sì in realtà apprezzo di più una roba del genere e poi come scam apprezzo tantissimo gli ho scritto su discord e ho scritto guarda non è che mi dareste un codice che così ci faccio due video e faccio roba questi qua sono i miei social ma mi ha risposto sì sì tieni divertiti col codice bella posto e quindi mi stanno ancora più simpatici ciao nicolò ciao degusto ciole passatempo come un altro preferisco questo rispetto no ma non altri giochi non altri giochi nello specifico però tutta quella madre di extraction shooter non voglio citare giochi in particolare perché poi non è quello però si può guardare si può cercare tipo un action game si ci potremmo cercare di extraction shooter qua action game ok anche tipo marauder ok un gioco te lo fanno pagare 30 euro ok marauder è una merda è una merda mi spiace dirlo perché l'idea è buona e figa e tutto ma è proprio quello il punto anche io l'idea la tiro fuori bella mi metto lì un pomeriggio e dico ah sto gioco farà tutto è una merda ok magari fra cinque anni sarà un gioco della madonna se gli dessimo tutto il tempo del mondo diventerà un gioco della madonna però è insomma non è un gioco da 30 euro porca troia e ti dice giochi giochi simili beh come questi borderlands ram va a cagare finis ah zero hour 10 euro zero hour non era brutto me l'avevo imparato bene io non l'ho provato ma me l'avevo imparato bene costa solo 10 euro ma figa in realtà di quello me l'avevo imparato bene però non l'ho mai provato gunsmith simulator l'avevo mai visto che bomba tra l'altro ho scaricato harsh operation harsh doorstop che ha uno dei nomi più brutti della storia di videogiochi e questo secondo me aspettando un po' diventerà una figata perché in realtà non è un gioco tecnicamente ma è una roblox è una piattaforma dove la gente poi ci fa i mod e ho provato e c'è di tutto completamente free e ci fanno di tutto ci puoi letteralmente fare tutto cioè apri il coso per fare i mod e e ci fai quello che vuoi e c'è secondo me quella faranno vedere sicuramente guarda c'è cosa dei toy soldier coi soldatini c'è l'ambientazione di star wars per dire Gary's mod 2024 esatto trascinderete i compagni feriti in una mappa open world esatto a loro non costa niente darti l'uno dei totomatidae si infatti risuscitato anche tu oltre a quel tipo tutto unto esatto incursion red river ma arma 3 com'è un gioco migliore mai assistito prova un vr e prova ghost a tavolo volevo prenderlo ci ho guardato l'altro giorno però allora io ho problemi con i vr che mi fanno vomitare proprio fisicamente sto male a giocare con i vr e poi non ci voglio spendere 300 euro per un gioco più il gioco a cui giocherò probabilmente cinque volte e basta quindi ciao riccardo non l'avevo mai visto sto cosa gas me simulator vabbè e basta c'è c'è non ci sono altri extraction shooter usciti c'è ufficialmente non ne abbiamo tra l'altro ciao rocket posso dire amanti di arma 3 che la community ha rotto i coglioni amo quel gioco la foglia ma è un gioco di merda a caso della community eh si puoi dirlo e concordo beh comunque si questo qua secondo me diventerà una figata appena è ancora un po' in realtà l'ho provato e non è brutto eh cioè vedi è molto squad sembra di giocare a squad è praticamente identico e voglio vedere se ci sono le ultime perchè hanno messo i veicoli voglio vedere se c'era no probabilmente il più vecchio è stato trailer però per dire hanno aggiunto già vediamo anche le ambientazioni ognuno ci fa quello che gli pare puoi fare l'ambientazione che vuoi hanno aggiunto i veicoli eh è una figata è di base questo gioco bisogna aspettare ancora un pochino però è free quindi se qualcuno se lo vuoi provare guarda arma 3 è la moto gigante di warhammer lol spero neanche ci fosse ieri leggevo di quanto sia tossica la community su palia what? ok ok comunque veramente non abbiamo di l'extraction shooter ehm extraction shooter games c'è un elenco di extraction shooter ehm extraction shooter games c'è un elenco di extraction shooter è uscito ah no per loro è uscito lo stato vabbè è una merda di base sto gioco lo penso è uscito ufficialmente quindi vabbè che è free cazzo ne frega un gioco free sti cazzi uscito no arma 3 anderete da molti o verrete da troppi è che non ti fa venire voglia di di giocarlo è quello il problema che uno che arriva dall'esterno non non gli viene voglia di giocarlo ma che è sta roba expedition agartha è free anche questo ma cos'è? medieval extraction looter ah distraction shooter rpg quindi sono diventati extraction looter beh ci sta abbiamo visto comunque molto di peggio per un gioco free ok sarà una merda eh perché sarà una merda però giochino free del cazzo ho visto molto peggio cazzo ce lo voglio provare adesso non è di me friend eh lo so esatto eh grazie goblin per 21 mesi grazie mille bello il gatto qua ce ne sono due qua adesso devo attaccare anche la la camera leaving early access questo è a te settembre 21 figo sto cercando tantissimo da arena breakout mi gioco per cellulare è figo arena breakout molto figo l'avevo provato per un uscito non è fatto fatto proprio perché è ovviamente una copia uno a uno di tarkov però è super figo che cazzo sta roba sin duality echo fada ma che cazzo extraction looter però suona benissimo è figo suona bene 21 centimetri di pipo si 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 sa che i mesi di sub mio canale equivalgono a centimetri di pipo tutti dovrebbero giocare almeno una volta non è il migliore gioco al mondo quello è titanfall 2 ed è un fatto no arma 3 guarda lo proverei anche ma è troppo complicato a parte che è uno di quei giochi che non è che ci puoi giocare un paio d'ore e dici ok figo oppure ok no non mi piace troppo come tarkov ci devi stare due mesi c'è un cazzo da fare tiagatsu expedition akata è entrato in ieri dopo tarkov esce prima di tarkov esatto vabbè ma tarkov ormai è una merda squad tarkov è come diceva gigabiff cioè non è un gioco in early access è un gioco coso as a service in realtà è uscito in realtà lo stiamo giocando tutti lo trattano come un gioco uscito e poco alla volta ci stanno dando contenuti c'è un cazzo da fare esatto un game as a service esatto un game as a service è game as a service game as a service è uno dei nomi più stupidi game as a service esatto living game per dire non potremmo chiamarlo living game game as a service è una merda non vuol dire niente è difficile da dire è brutto da dire ah perchè as a service è proprio un termine che si usa ah ma pensa x as a service per ogni business model tutte le robe con una sottoscrizione non lo sapevo ecco perchè lo chiamano così è comunque una merda quanto durano ancora l'evento su tarkov non si so non si sa nella musica dare gli strumenti a tutti riempie di merda rispetto al passato troppi giochi e troppe cagate sì quello è vero quello purtroppo è un bene o un male allo stesso tempo eeeh sì è che tra l'altro tutti quanti poi si te si sentono mh in diritto di avere un gioco che la gente gioca cioè se adesso qualcuno fa un gioco suo indie da solo che fa obiettivamente schifo si lamenta ah la gente non gioca a mio gioco la gente gioca solo a call of duty allora no è che il tuo gioco è una merda cioè non c'è un cazzo da fare ma l'inerzia non è il problema su tarkov dove è il discorso peso secondo me cioè il fatto che l'inerzia viene influita viene amplificata troppo dal peso che è addosso mettiamola così l'inerzia di base serve perché prima era un po' troppo ridicolo come gioco però è troppa appena hai 20 kg addosso sembra che hai un tir sulla schiena battesiamolo gas ma fa comunque schifo giochi a tarkovarena no eh dovrebbe essere più consistente si dice dovrebbe essere più consistente il movimento ogni tanto fanno cose a caso ogni tanto sembra che si muova in un modo ogni tanto sembra che si muova in un altro il tuo pg e quello è quello è un grosso problema dovrebbe essere leggermente più irattivo si l'inerzia nei movimenti no ci sta prima sembrava giocare a cs con la gente che faceva strafe laterale come se fosse su cs dai quello era un po' esagerato ma poi neanche tanto per lo strafe proprio per i movimenti i cambi di direzione i salti tutta sta roba non si sente l'audio credo sia un problema tuo perché direi che vada tutto qua che tanto se non senti l'audio non stai capendo cosa sto dicendo ma vabbè esatto dovrei scriverlo in chat tarco venere arena esiste ancora più o meno molto più o meno dobbiamo costringere il respawn a darci titanfall 3 so che non c'è un'amica con sto canale titanfall ancora meno con la live ma bisogna spargile credo viva titanfall 3 ma si sarebbe abbastanza figo ma in realtà cioè non è che io i giochi cioè so che la gente ci stavo pensando l'altro giorno allora questa è una riflessione abbastanza personale non so quanto ve ne freghi però la gente mi sta prendendo come quello che gioca tipo ai simulatori militari survival e cose del genere in realtà ho iniziato da relativamente poco cioè sono sempre stato più per gli arena shooter e per gli rpg per dire sparatutto tattici oltre a COD io non ho mai giocati prima di Tarkov quello più realistico a cui ho giocato è stato PUBG cioè per dire che ovviamente non è realistico giocai ad arma a suo tempo abbiamo giocato tanto ad arma tipo nel 2004-2005 in quegli anni lì però si per il resto simulatori alt survivor e così mai mai giocati ho scoperto che mi piacciono e quindi ho iniziato da relativamente poco e con quale arma? con un grosso dildo rosso mettono i max su Apex e hanno risolto minchia Apex quanto cazzo mi è piaciuto madonna quanto ci abbiamo giocato penso con 44 kg di tank battery ma ci sta se hai veramente 50 kg sulla schiena ok è un conto però quando inizi ad averne 30 sembra che non ti muovi più quello ciao Eric ciao mister ah as as notorious come cazzo si pronuncia vabbè Tarkov è il tuo preferito non lo so non mia mia ma dopo tanti anni non è che mi diverta più come all'inizio Tarkov ci sto giocando un po' per i nex perché non c'è altro da fare e adesso dovrei iniziare volevo finire sto cazzo di K e appena preso il K pensavo di iniziare a girare un po' di giochi a cambiare a provarne altri a Diablo ci ho giocato appena uscito ci ho giocato tanto appena uscito ma è una merda piuttosto Last Teepok o Path of Exile 2 quando esce Apex mi sta su cazzo perché ha tolto il developer a Titanfall 3 eh però è figo Apex c'è un cazzo da fare gli è uscito bene mettiamolo così Battlefield lo conosco? sì e non mi piace io vorrei un nuovo uomo non riesco più a farmi venire e voglio fare un raid ho visto che fanno Guild Wars 3 tra l'altro per l'inerzia madonna mia 30 kg di stacco sull'equipaggiamento standard è quello è quello il problema è che comunque non lo so secondo me bisognerebbe bisognerebbe fare una via di mezzo cioè non dico che l'equipaggiamento che hai non deve essere considerato nel peso però per dire aver la roba nello zaino è diverso che averla addosso cioè avere lo zaino pieno per dire ovvio che dà fastidio avere un'armatura addosso che il peso è bilanciato su tutto il corpo dà meno fastidio quindi il fatto che un'armatura di 15 kg influisca sui movimenti con un'armatura di 15 kg nello zaino a me sta in culo cioè non lo so così però è troppo così il peso influisce troppo su Tarkov secondo me credo molto in gray zone anch'io anch'io ci credo molto e secondo me secondo me andrà bene secondo me andrà bene gray zone e lo spero ma giugate 3 merita un sacco lo so giocato rigiocato gran gioco per esempio una via di mezzo diciamo una zona grigia stai carichi oggi per quanto gioco io ad esempio sono per elementi overweight si e tra l'altro poi c'è il problema anche che la forza influisce parecchio si sa il periodo di uscita no? così ad occhio inizio maggio inizieremo a vedere qualcuno che inizia a giocare mettiamola così io sono solo un po' perplesso su maffanculo mi ha aperto Tarkov un monitor ah non mi ha aperto Tarkov sul monitor verticale guarda com'è adesso io sono solo un po' perplesso su 16 v16 v16 ma non è tecnicamente così cioè io quelli della mia fazione posso ammazzarli non è proprio che devo collaborare per forza a tutti i costi se uno vuole può ammazzarli probabilmente sarà fatto per non invogliare a farlo cioè che se ammazzi quella della tua fazione poi non o perdi reputazione o non ti danno missioni o cose simili quindi ovviamente sarà devo trovare modo di mettere a posto questo gioco quindi sarà abbastanza forzato il 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 dover collaborare però hanno detto che se uno vuole fare il lupo solitario può farlo quasi morph non mi ha sentito dopo se mi ricordo ci guarda Grayson sarà il primo milsim ad obiettivi più incentrato sul PVE quindi sarà più cillato e quindi più godibile quello si si non è proprio un milsim se ti sente qualcuno che gioca ad arma che l'ha chiamato milsim secondo me ti viene a bruciare casa però si grazie cimix per i due mesi ve lo vedete su get the fuck out no non credo lo giocherò l'avevo guardato quando era uscito ma non credo lo giocherò l'unico modo che ho trovato per non uscire overweight è usare il VSK e l'MMAG eh ma ci sono dei loadout che ovviamente non sei pesante però si è un po' un po' un'ortura di cazzo dovere guardare quelle robe cioè mi senza casco per la queser e le kill con il bini ah beh sì così si è posto vabbè non essere cioè io per dire ho sto loadout adesso che ho completamente inculato a qualcuno infatti vedi non c'è la roba assicurata però c'è un M4 bene o male in meta con tutto quello che serve non sono overweight aspetta sono 28.2 sono verde però probabilmente perché ho livellato abbastanza la forza poi non tanto perché non ci sto guardando però c'è l'A38 che è sicuramente più alta della media quindi è per quello che che non sono che non sono giallo come peso però si è una merda il Tarkov è riuscito a collaborare con un pari fazione no non è più ma qua non ci sono non c'è un singolo motivo per collaborare con qualcuno su Tarkov se non il il divertirti cioè non non c'è un motivo per farlo su Grayzone invece invece si ci sarà diciamo per dire i miei sim si si no no beh è ovvio spara tutto tattico strategico spara tutto tattico tecnicamente credo che sia quella definizione ciao Calabria Tarkov si acquista il suo il suo sito escapefrontarkov.com unicomissima è l'airsoft è arma allora per cortesia con il DLS attivo può essere che non vedi la gente no in teoria non dovrebbe influire il DLS non cambia niente il il come e dove viene renderizzata la roba cambia solo la tua immagine finale in teoria l'MMH è inutile sia una merda è inguardabile la Corum è molto leggera si però è anche di secondo ha le cose sotto di secondo quindi cioè alla pari se prendi tipo una cazzo non ho più armature di quelle altre eh se prendi tipo una defender che ne so eh vabbè una Redwood più o meno sono questa tipologia di armature ah dio cristo ce n'è una piena no questa ah però le play di quarto questa che baloro ci ha messo le play di quarto per venderla così la gente vede che è piena e la compra ok questa qua medi 13.5 per dire questa con la stessa ah no anzi no questa c'ha anche le due così la Corund 7 kg e 6 e questa era la cazzo era qui 15 cosa che ho detto 12 non mi ricordo più questa 13.5 ok di quinto con la stessa roba 13.5 e questa 7.6 però ha quelle soft di secondo ha quelle sotto di secondo la Corund io per questo wipe ho finito di giocare appena l'opno mi vengono iconate a pensare tra un pochino devo rifare tutto sì anch'io di solito mi fermo più o meno a questo punto per quello infatti i trader a 4 sì hai tante di quelle secondo me io ripeto sempre l'armor migliore come rapporto qualità prezzo una volta che hai ah 143 è un po' aumentato però cioè anche se è aumentato 143 col martellone ti danno la defender 11.5 che non è tantissimo e alla fine la paghi 140.000 cioè l'armatura di quinto con le cose soft sotto di terzo per me è il top se no quando ci si riesce a prendere questo su che è sempre sempre sold out ok adesso no ma di mattina ci sta di mattina c'è la gente che gioca se io ormai sono arrivato alla conclusione che voglio le braccia coperte più con lo stomaco è un prenderci una volta serve una volta serve l'altra quindi di solito uso questa o questo solo che pesano infinito questa sono 15 kg e questa sono 15 kg e 9 kg eh allucinante come cosa ma se guardi il peso di questa 359 ok perché ti dice anche quello che c'è dentro prendiamo rig rig si non costa un cazzo prima è possibile fare un M4 senza spendere 800 rubri ma gli M4 infatti non ha molto senso usare questo wipe ce l'ho perché l'ho inculato a qualcuno tra l'altro c'è un termico sopra ce l'ho perché l'ho fregato a qualcuno ma non ha molto senso usare gli M4 sto wipe come codare mentre finiamo di rispondere fare uno spesso di sistema di calma per il PMC ma no non lo faranno secondo me è stata abbandonata la cosa è stata abbandonata ma sono io che non vedo niente in che senso ah dei player dici no si il DLS non dovrebbe influire su quello perché il DLS semplicemente cambia quello che vedete alla fine all'inizio solo armo ravi di 4 appena sblocchi il lettore il craft per le piastre di quinta la situazione già migliore ah ok è che io ho l'abitudine di tirare dritto fino al 42 io fino al 42 uso quello che trovo un cazzo degli scav dei player morti roba che fa schifo non so perché ma mi diverto di più così poi al 42 quando sblocco tutti i trader a 4 allora mi dico ok iniziamo a guardare che armi farci perchè non sei su twitch sono anche su twitch diranno solo spear rispira costano dei soldi sono un pezzente nell'anima anche l'AUG l'AUG è ottimo secondo me MDR cioè se si vuole usare quel calibro l'M4 non ha senso sto wipe l'M4 non ha veramente senso MDR o AUG c'è posto spendi 2 lire a moddarli fanno praticamente la stessa cosa ma non c'è veramente un motivo per usare l'M4 ciao Daniele ciao lurk ti piace il VSS? a me no a me ha sempre fatto cagarissimo come arm però è forte in determinate situazioni è secondo me da da vicino è credo l'arma più forte probabilmente se sai di beccarti qualcuno da vicino se devi andare che ne so a fare questa ai dorms oppure vai ai labs più o meno anche lì però rischi di trovare qualcuno lontano però si se se per qualunque motivo devi fare un fight da vicino secondo me credo sia l'arma più forte dai ho sparato un flare adesso fanculo che ce l'ho anch'io che palle allora a me serve servono degli scav morti perchè devo lotare roba mi servono gli due tragetti per il K ciao Goro grazie per il Prime ciao Gigios infatti ci obbligano ad usarli perchè ci sono tipo 30 questi in cui dobbiamo uccidere scav con quella roba di M4 super costosissima esatto beh no super costosa no no scusa le quest M4 non puoi usare le M4 che vuoi o mi confondo no si puoi usare quello che vuoi poi va bene costa un minimo devi moddarlo quello si abbiamo visto che c'era un ledix qua da qualche parte dov'è che spona non mi ricordo ah qua sopra ah nella balena ok esatto l'evento di cosa tratta? ma ci sono dei falò in giro che puoi accendere sparandogli con dei proiettili traccianti se ne accendi 3 spuona un boss che però è tuo amico e ti da un oggetto a caso una merda non serve a niente era così giusto per ridarci la neve per riaccendere un attimo l'interesse per far tornare a giocare gli streamer a Tarkov proprio palese palese così va a bantare col falò più o meno si e no comunque anch'io le M4 quando devo facci le quest si c'è una versione economica col fatto che adesso le armi non hanno più recoil puoi bene o male giocare cose abbastanza economiche e farci roba decente cioè comunque non è una una merda come prima dove sta andando? non lo conosco benissimo sto posto c'è da ruotare qua in giro no quale cazzo è la porta che si apre per andare di la? questa? no questo è il bagno eh ah no ok di qua va bene e questa è? no ora non ho capito dove sono il M4 lo uso solo da scav quando ho fatto ai rock per fare altri rock ah quello funziona indubbiamente quello funziona diventa ancora attivo sì non si sa fino a quando a parte la prima in cui deve essere silenziato obbligatoriamente ah beh l'uso comunque sempre silenziato in realtà le M4 se uso quelle armi è difficile che non siano silenziate anche se devo comprarci un silenziatore del cazzo che costa poco in assoluto al momento ho avuto più difficoltà a fare The Punisher parte 4 si si è una merda no Lighthouse è ingiocabile Lighthouse è una mappa ingiocabile Lighthouse è è da giocare solo da scav cioè il resto minchia veramente schifo cazzo da fare è riuscito a fare prima le Punisher che li scav a cottage e anche quelle delle scav a cottage è madonna mia un po' una merda e l'ho fatta mentre quella degli scav a cottage l'ho fatta mentre ho fatto il video quello dello sniper perchè spesso quando spawnavo lì in zona e mi appostavo lì in zona e quindi mi spawnavano sotto il culo gli scav non ho fatti tipo i 5 o 6 che mi mancavano mentre registravo quel video gli scav a che oltre a qualcuno che spara lanciare adesso giocavili? no Il prossimo while probabilmente faranno quella modifica Ah no merda c'è uno di questi che costa tanto Qual è? Insomma quelli scuri costano Può essere La demo di vostro su mdcrush Sì ho letto anch'io Non so se hanno trovato una soluzione oppure no Però sì Non ho letto anch'io Due palle sto era No dicevo che andavamo a ruotare qua sopra Guarda che c'è un player qua in zona Sparavano Ciao Sam, ciao Piggy Lighthouse è forse la mia mappa preferita Tanti posti dove prendere l'uccello Tanti posti Dove morire senza sapere il perché o il come Amo quella mappa e i rocchi ti sparano attraverso la montagna Eh sì Ognuno ha i propri gusti però sì Comprensibile Immagino No ci sono i farò qua in zona Beh che sto diventando Tutto congelato Ah e poi vicino ai farò ci sono degli scav strani con le maschere Che non ti sparano se vai da PMC Fucile a pompe in mano ma valigia non apribile Esatto Ah eccole guarda Ciao Sono super incazzati Se sono ammazzato un qualche pelle qua Ah erano loro che sparavano allora Mi sa che hanno ammazzato qualcuno qua in zona Dove sono i farò? Ah uno è qua guarda Ci sono questi farò Ce ne sono tre devi accendere insieme Se li accendi tutti e tre insieme Spona Tipo uno sriaci Tutto verde Strano E gli scav Quelli buffi Sono questi qua con le maschere Hanno anche le maschere Quelle che costano un sacco di soldi Quello ormai non costa più niente Grazie all'evento Quello è sceso un sacco Quella stava tipo a duecento Trecento Adesso sta Boh Ottanta L'ultima volta che l'ho vista Forse anche meno L'altra invece Costa ancora tanto L'ultima volta che ho fatto un game su custom Ne ho uccisi 25 Più tre scav player Ed un piano C'è arrivato l'ennesimo scav player Che ha loottato i morti E' riuscito a girarsi E mi ha fatto i bastardo Eh sì Purtroppo capita L'altro giorno stavo facendo Stavo facendo le quest di atah custom Che mi mancavano un paio Praticamente vedo un PMC tipo nudo Era veramente tipo di pistolina nudo Che stava andando verso Tarkone Per fare una quest Gli ho sparato un colpo da lontano Ma neanche troppo lontano Ero abbastanza vicino Però Non l'ho ammazzato Ho detto vabbè chi se ne frega Tanto non mi serviva Non mi serviva ammazzarlo per nessuna quest Allora ho detto Vabbè chi se ne frega Dai lasciamolo lì Mi faccio tutto il giro Ammazzo tre player Ammazzo un sacco di scav Luto Sono pieno in ballaio Tipo 70-80 kg Non lo so Rivedo lui Lo riconosco Con un'arma di uno scav in mano E ha iniziato a fight E ho detto guarda se muoio da questo adesso Disinstallo il gioco Se muoio da questo qua Che ho lasciato vivere All'inizio ride Disinstallo il gioco L'unica cosa facile È fare la conta dei PMC rimasti Una volta che senti lancia granate di torretta Sai che un PMC è decollato Esatto Sistema per testare gli effetti Di fredde caldo in game Eh ma ci penso anche Ogni volta che fanno questi eventi Penso a cosa stanno testando Perché sicuramente è per testare qualcosa C'è un cazzo da fare Com'è non prendi qualche ride Ai voli di Twitch E li carichi su YouTube Non sono dei video Che mi interessa fare Se mai capiterà qualcosa di interessante Lo farò ma In passato l'ho fatto comunque Sto evento abbiamo avuto il veleno Ero il freddo Vero? Bisogna mettere da parte E vendere dopo la fine dell'eventa Ah volendo sì è vero Non conviene comprare nemmeno Lo spectre da pischi per altre Fino a quando non arrivi A livello 40 Che senso il mirino dici? Beh dipende quanto costa Secondo me Per quello che costa no Ma lo spectre costa un botto Comprato dai player Mi guarderei volentieri Ci sono tutte le mie live Su YouTube Comunque sia quindi Se uno proprio C'ha del tempo da perdere Vuole vedere la mia bella faccia Può guardarsi le live complete No non sembra Non sembra ci sia nessuno In realtà qua intorno Mi guarda serveva qualche pmc Per fare l'evento Ma direi di no L'evento c'è una merda C'è un dei falò Da accendere E spona un boss Che ti droppa un oggetto Bastante uno schifo Costa 40.000 rubli Beh allora costa come da pischi per scusa Dai c'ho qualcosa nell'occhio Madonna Nikita Ma il culetto non si può Sì per una di realtà Sono principalmente le spawn Quello sicuramente Oh Ma sta succedendo What? C'era qualcuno che sparava sto scav Ma c'è qualcuno che ci sta cerchinando Cazzo Grazie piggy per i prime Ma che è questo affetto Eh l'evento Madonna Nikita Che si è offesa più grosso Che si possa fare Sì è vero In effetti è vero Per questo io A pischi per al 3 Gli sto comprando di spectre 4 al giorno Anche di più Eh madonna A me lo spectre non piace Comunque di base Come venino È ottimo come rapporto Qualità prezzo Credo che sia il migliore Come rapporto Qualità prezzo Però se uno Ne ha degli altri da parte Dice anche sono migliore Siete vicini troppo a fallò Diventano stili No No da scav no Ma neanche da player Credo Però sto scav è incazzato Ma chi c'era Scusa Chi è che ti sparava Comunque sia Cioè arrivavano i colpi qua Però lì c'era Ah no Perché dicevo Sembrava lo sniper Che sparava a noi Però lo sniper Stava probabilmente Sparando al PMC Che sparava a noi Vabbè mi sono lato il cazzo Andiamo Andiamo via Perché gli adoratori Della della morte Dovrebbero essere ostili Esatto Non vedo veramente Perché sembrano personcine Tanto Gradevoli E cordiali I rubles A cosa servono Tutto Tutto gira intorno ai rubles Servono a comprare cose Sono pronto per la dominazione In che senso Su Tarkov Abbastanza Dominazione anale Un po' meno Mi stavano così tanto Che li lascio lì Comunque zero scavomorti Questo è il primo Che vediamo E dai apri la mente Ma la mente L'apro È qualcos'altro Che non vorrei aprire Ho iniziato Stalker Gamma Mi hai fatto bene Bello È che dopo un po' Che vai avanti Diventa molto ripetitivo E È un po' Non Non semplice Ah ripetitivo Semplicemente Perché poi le quest Sono sempre le stesse Le cose che fai C'è l'utilare Una smonti Poi vendi Poi sistemi Un po' Fa sempre le stesse cose Però Sicuramente È un bel gioco Zero sivert Ci ho giocato pochissimo Credo avere due ore Attivo Però Sembra figo Secondo me è figo come gioco Non manca una sacchetta Non manca una sacchetta È vincito poi Il tempo fa C'è la nobilità A me sembra interessante Ma non so che fine ha fatto Hanno finito È uscita la versione finale L'hanno finito C'è un video sul canale Di quel gioco Ci ho giocato Bello anche quello Mi era piaciuto molto All'epoca La storia non finiva Però Sì adesso che l'hanno finita Secondo me A me vale la pena Provarlo C'è cabana Non lo so Adesso andiamo a vedere Non abbiamo sentito niente Quindi se c'è Probabilmente è morto O semplicemente Non c'è andato nessuno Siamo anche spawnati Abbastanza tardi Potrebbe essere Tutti i giochi Ti piacciono tantamente Tanto che alla fine Non ci giochi E cosa devo fare? Una volta che ci giochi C'è Chernobyl Ok mi piace L'ho finito L'ho finito la storia Che avevo Non è che lo rinizio Per fare un'ora Di gameplay in più Magari ci gioco Per i fatti miei Ma non in live Perché se gioco a qualunque cosa Che non è Tarkov Poi mi devo sorbire 740 persone al giorno Ma perché non giochi a Tarkov Ma è mollato Tarkov Ma non giochi più a Tarkov Ma Tarkov è morto Non è per quello In realtà in live In realtà in live Gioco a quello Che mi vai a giocare Perché tanto Se non lo facessi Mi romperai il cazzo E non andrei in live Però Qui c'è anche di base L'unica cosa Che mi fa impazzire Sono le mappe Come su Tarkov E non un mondo Open Ci stavo di più Sì Essendo Essendo Single player Ci stava In effetti Comunque non c'è caban Essendo single player Ci stava Però Ma a me il sistema di base Più Scelgo la mappa Stile extraction Non mi dispiace Più che altro Perché giochi a Tarkov Quella è la vera domanda Esatto Ma a me la never Non dispiace Un po' a ciclo Ogni tanto Ci sta Secondo me Non sempre Ci sta Che cambino Ogni tanto A me ha provato Il primo fear Il primo fear Raccontiamo un po' Di lore Di Non del canale Lore di Fabio Io al primo fear Ho giocato online Competitivo Perché il primo fear Avevamo sia il clan Il nostro clan Che erano poi i ragazzi Con cui ho giocato A A COD Basta in realtà Erano quelli di COD Sì Era il team di COD Col team di COD Abbiamo giocato fear Facendo torni e tutto E poi ho giocato anche Nella nazionale Con Dell'altra gente Di altri clan Di COD Sempre Perché poi Si era spostata la gente Da COD un pochino Ed era molto figo Online Secondo me Era un gioco Della madonna E siamo anche andati bene Siamo arrivati Le semifinali Di clan base Voi direte che cazzo è clan base Ok in pochi di voi Sanno cos'è clan base Però era praticamente Un sito Era tipo il concorrente C'erano SL E clan base Anzi prima c'era clan base Poi è nato SL E organizzavano i mondiali Nazione contro nazione E riadmin di clan base Un sacco di gente vecchia Effettivamente Mi dimentico sempre sta cosa E ai mondiali Di clan base Di fear Siamo arrivati Alle semifinali E abbiamo perso Contro la Polonia Ci ha sfondato il culo In una maniera che Non sapevo fosse possibile E noi eravamo super carichi Perché c'eravamo In tre Che eravamo veramente forti Su fear Perché ci abbiamo giocato Un botto E ci nerdevamo Veramente tanto E c'eravamo io Tavo Che è Tavernello Che non è quello Che gira adesso Ho visto che c'è un tavernello Che gioca a lol Credo Però è un altro Sono andato ad indagare Non è lui E vabbè Altra gente Che poi Non ha più giocato niente Ed eravamo molto forti Però ci hanno veramente Spanato all'ano Come si dice In giargo tecnico A Polonia Ci saremmo mai aspettato Abbiamo succhiato Le banane Alla Polonia Sono qui per disperazione Dato che domani Devo dare patologia E mi sono arreso Al mio destino Diventerò cristiano E pecherò tutto il giorno Sì Non credo funzioni troppo Però in bocca al lupo Apprezzo il fatto Che sia uno dei pochi Che streamano E non usano Il secondo monitor Per citare Ma non è vero E di realistici Ce ne sono Diversi Come Ready or Not O Ground Brunch Ground Brunch Non mi era piaciuto Tanti L'avevo solo visto In realtà Non l'avevo giocato Dovrei Ready or Not è figo Il prossimo video Che faccio sul canale Il prossimo video Studiato Quindi un po' lunghino Sarò su Ready or Not Probabilmente Sì come io Ero a capo Del team di traduttori Traducevamo i regolamenti Di tutte le varie ladder In tutte le lingue del mondo Ah figo Ma pensa Ho giocato a code 4 Sì ma Così Perché sia l'ultimo code Che ho giocato Tra l'altro Ma online Non mi ricordo neanche Se l'ho giocato Ho giocato Pochissimo online Sì Decisamente anale Tavernello O Neldo Taver D'altro l'ho scoperto Dopo Anni che lo conoscevo Che il nick era Tavernello Perché tutti lo chiamavano Tavo E anche il nick che usavo Era Tavo In game E l'ho scoperto Anni anni dopo Cazzo me ne frega Direte voi Niente Però Siete qua ad ascoltar me Quindi Ve lo dico comunque I realisti Su console Sono infimi Può essere Ma legge la chat qui Sì Leggo tutto Leggo Volevo un consiglio Mi sono appena approcciato A pc Volevo acquistare Tarkov Hai consigli? Sì Non comprarlo Siete qua Volevo crepare male Eh lo so Ma è che all'inizio Vedi appena si inizia la live Solitamente la gente è più attiva E fa un sacco di domande Quindi Di solito all'inizio Cerco di rispondere A tutti quanti E quindi mi faccio Mi sono fatto la scavata Da 50 minuti Dove sto passando più tempo A leggere la chat Che altro Il ppsh No Non si modifica In nessun modo Non ci può fare niente Credo Ehi What cui E boss Hai provato Bannerlord Sì Ho anche vari video Su Bannerlord Su questo canale L'ho lottato Comunque Non lo so Sono Ufficialmente Arrivato All'idea Sono ufficialmente Arrivato All'idea Che al momento Tarkov Non so se consigliarlo Secondo me Se uno vuole un gioco Del genere Fa prima di aspettare Greyzone O uno degli altri 200 Progetti In via di sviluppo Io Adesso Come adesso Non lo so Se consigliarlo Sarò sincero Cioè uno deve proprio Averlo studiato Veramente Tanto E sapere Che cosa lo aspetta Perché non è assolutamente Godibile come gioco C'è un cazzo da fare Soprattutto per uno Che inizia adesso Dov'è che arriva Sto drop Tra l'altro Ma è di cristo Ma te l'ho sparato qua Me lo molli in culo Oddio Dai Non da fino là Non pensa Dov'è implementare Il poterci auto Sparare Per non fare Averle kill Agli altri Ma Cosa vuol dire Puoi fare S disconnect Cosa cambia Scusa La stessa identica cosa Qui con Rai Sembra una battuta Di caccia Ma si Sto proprio Non mi Mi sparano Perché sono Dei bot E anche io Sono un bot Sto giocando Come scav Quindi sono Tecnicamente Un bot Wow Il mio gioco preferito Non Non ho uno preferito In assoluto Di sempre Probabilmente Baldur's Gate 2 Ma che è sta cosa Ma ti pare Un drop Gioco Poteva disegnarmi Un dito medio Con la carta igienica Dentro Ah no Sono spawnato Qua quindi Non ce l'ho Dobbiamo Andar di là Dobbiamo Catacumbe No Carco ti cambia No Non in meglio Cioè Non è che non è detto In meglio È certo Non in meglio Manordor Dovrebbe uscire Fino di questo mese Sembra carino Ho visto qualcosa No No Ho visto niente Vedere l'animazione Che ti spari in bocca Non lo so Non mi ha convinto Credo che tal Quindi un'era In cui la soglia Di attenzione È dettata La tiktok Il tempo Per stare Ci dietro Nella maggior parte Il caso Poca euro al giorno La migliore dell'ipotesi Si è un gioco Di difficile godimento Si Hai detto In maniera un po' Più artistica Quello che intendevo io Ciao Andre Tornassi indietro Non giocare mai più A sto coso Mi mette solo Acidità di stomaco Si Insomma Non lo so È che non ci sono Grandi alternative Eccolo il problema No Ma questo ride La scavatina Così ci sta Adesso andiamo Andiamo a cercare qualcuno Da sparare Ciao Nathan Adesso Cosa facciamo Cosa facciamo Andiamo a vedere Dove sono i Goonstark Goonstracker I Goons Sono A Shoreline A Shoreline Sono Veramente Una merda Che pazienza Che pazienza A Shoreline Sono veramente Una merda Andiamo Con il Super Mirino No Schifo Perché no Dove ne due robe Perché C'è sempre meno gente Che gioca Quindi ogni tanto Si pianta l'asta E non me le comprano Quindi bisogna Che le mettiamo Su in vendita Così nel frattempo Che siamo dentro Il ride Qualcuno le prende Madonna Quanto costa C'è veramente Nessuno Lo sta giocando A noi mancano Goons Rider E basta Gli oggetti Goons e oggetti Allora Noi ci prendiamo Le chiavi Del resort No Chi se ne frega Non mi interessa Andiamo Shoreline Let's go Vado Dopo Andiamo A resort Adesso Faccio un giro Fuori Vedere Cosa succede E intanto Andiamo A fare PP E faccio parte La pubblicità Finché siamo In caricamento Arrivo Subito Chuzz Per Di Applì Tipi Ass school E Ablì Am Grazie a tutti. 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 Sono tanti. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho visto. qualcuno. a tutti. No, no. No, no. No, no. E' un'altra. Grazie a tutti. Tutto bene, grazie. Tutto bene. e non ho letto. qualcosa, comunque, mi hanno letto. in 16. il pvp. conta, è un pvp. presente in questo, è un pvp. per te. leggermente ripreso. ma leggermente, il pp. immagino, liberare. sono su, sono su, 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 generale. Se, se cerchi, su, 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 su a nikita vaffanculo probabilmente ci sono da qualche parte però sono scritti in russo e non li riconosciamo grazie per i due mesi comunque os io ci gioco con un gruppo di miei amici se no probabilmente sarebbe una merda ma sicuramente ma come tutti i giochi in gruppo miglioro parecchio io gioco sempre in solo mi passo mi diverto comunque ma perché io gioco tanto io gioco in orario del cazzo sesso da soli e sesso in gruppo infatti sono comunque due cose interessanti divertenti sono diverse mettiamola così c'è gente che cita su animal crossing esatto ma ci sono quelli che citano su world divers 2 ho visto che c'è la gente che entra nei server e droppa oggetti a tutti quanti per sponsorizzarsi tipo per sponsorizzare i servizi di carry cioè roba senza senso se fare una petizione per cambiare engine risolverebbero tanti problemi eh ma dovrebbero rifare il gioco da zero non gli frega un cazzo non gli frega un cazzo in teoria il rework l'hanno promesso no il rework non solo la grafica hanno detto che rifaranno l'erba la grafica lo stile visivo e tutto quanto cambiare motore no cambiare motore è impossibile ma magari cambiare sviluppatori possono tranquillamente rimpararlo loro magari si prendono un paio di persone esperte del nuovo motore se è a posto però ormai il gioco è questo ce lo teniamo così sì sì non gli conviene assolutamente il tizio di rotto vostro che è di parere contrario eh vabbè sono due giochi di dimensioni un po' diverse però mettiamola così ciao twister ciao francesco un bel tarco su unreal che gira bomba è fatta sarebbe una figata no mi si promette tanto e mantiene poco sì non penso che lo facciano con cattiveria secondo me non lo fanno con l'intenzione di incularci ma è solo proprio che non lo sanno neanche loro cioè sono what? ah persi il divers ok hanno aumentato il livello da 50 a 150 su el divers che troia commento su tiktok fantastico video volevo fare una domanda se hai il VR ti consiglio Ghost of Tabor sì ma non è la domanda ok ma non è la domanda 150 solo al 12 sì io credo di essere al 6 dobbiamo fare una divisione del matchmaking in base agli stat no assolutamente a parte che le stat dei cheater non sono assolutamente indicative perché la gente si ammazza da sola a factory quindi lì scendono le stat quello è il primo problema il secondo problema è che il giorno dopo che mette in matchmaking questo gioco muore come mettere in matchmaking su Daisy la gente smette istantaneamente di giocare sì sì ecco il punto che noi ci lamentiamo ma continuiamo a giocarci non mi frega un cazzo perché per quanto comunque si abbia problemi alla fine fa anche tante cose come nessun altro gioco ha mai fatto mettiamola così vuole pregiare i punti e arena no assolutamente no non mi frega un cazzo di arena l'hanno già abbandonato secondo me arma migliore low budget SKS e KEDR WPP19 best map apescav quella che ti piace di più poi ci sono qui che mi ammazza factory per boostare vitality la 75% di survival è arrivata a 45% ma cosa ti serve scusa io non ho dovuto fare niente sto wipe per matchmaking intendi una logica nel creare le lobby sì per livello per ore giocate per stat non puoi farlo secondo te faranno il divest 2 per Xbox 1 o comunque Xbox non ho assolutamente idea il gioco il matchmaking uccide il gioco principalmente perché tutti gli streamer smettono di giocarci appunto il matchmaking il giorno dopo gli streamer smettono di giocarci perché è ingestibile è impensabile dover fare partite solo con pensa tutti i top streamer che hanno 20 mila ore su questo gioco si ritroverebbero in lobby sempre fra di loro dovrebbero giocare ogni raid come se fosse la finale del torneo mondiale perché è altra gente super esperta in raid impensabile e poi c'è il grosso problema che se tu metti il matchmaking su questo gioco il tuo survival rate va bene ci sono tantissime cose a random perché tante cose non sono dipendenti dalla tua skill o da come giochi tu sperai il mio no ero convinto di prenderlo ah no 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 ma sono loro pensate sono un idiota non ho mica riconosciuto mi stanno pushando tutti insieme dio cristo dai non avevo mi sembrato di vedere i pack che te l'ho se ero convinto non ci fossero sono andato la cazzo di cane e invece erano lì che idiota che sono mi sono ritornato in un posto di merda mi stanno mi hanno pushato un due insieme ma poi non l'ho preso it count 14 non l'ho ammazzato it count 14 ok non ci torniamo più con quest'arma puttana troia ah che palle ho giocato malissimo pensate non sono andato tranquillo ho detto vabbè ho tirato una lagattina ho detto non ci sono quindi ho fatto una strada di merda cazzo non credo neanche venissero giù di lì adesso che ci penso non l'avevo mai visti lì sotto vabbè avevo il mirino lunghissimo avevo tutto sbagliato proprio sto raid non avevo speranza di ammazzare dovevo arrivarci quando ho visto uno correre giù di lì era abbastanza ovvio che fossero i goons perché nessun player poteva essere cazzo di pifedio comunque erano specie di boss in pratica cazzo pensate comunque 14 cioè se quello lì moriva prima almeno ero tranquillo potevo girarmi e zoomare su su big pipe ciao ma tanto erano bot questi cambiava poco è buffo che non ci sono dei play post partita io l'ho inserito dentro il mio server di minecraft capito stiamo parlando di due giochi un po' diversi non è che non li mettono perché non voglio metterli non li mettono perché non hanno le capacità perché comunque sono pesanti sui server mettere una roba del genere allora proviamo con i BP lo facciamo facciamo così no voglio sparare gli am80 anzi gli am62 si fottono tutti che coglione porca è la seconda volta che li trovo non riesco ad ammazzare perché sono stupido beh vabbè ciao Art sto wipe ho tankato più con le tier 3 che con le 4 ma va tutto a caso l'armatura e sto wipe è tutta una merda vabbè che scioglie mi hanno pushato da palla ad antenna anche a me no a me sparavano ad antenna io ero ad antenna mi sparavano da palla dietro la montagna ero dall'altra parte quindi non mi vedevano continuavano a spararmi i ratti sarebbero interisti no in teoria no può anche essere comunque dicevo del matchmaking che se tu su questo gioco metti matchmaking vuol dire che in pratica spariamo apriamo un fall se io sono sempre con gente nel mio livello il mio solo la verità è 50% o quello che è non lo so 40% però è fisso io più miglioro non è come adesso che più miglioro più estrago più miglioro più ammazzo persone meno muoio più faccio soldi più luto più livello velocemente più vado avanti con le quest velocemente più velocemente faccio l'hide out se tu metti matchmaking dal giorno 1 al giorno 2000 è tutto uguale cambia niente perché gioco sempre con gente del mio livello adesso giorno 1 succhio dei cazzi giorno 2000 do il cazzo teoricamente poi ripeto ci sono tantissime cose fuori dal nostro controllo però è la base dei videogiochi più livello più io personalmente più divento forte più riesco a sopravvivere ad ammazzare gli altri se metti matchmaking non è un gioco competitivo che allora è giusto che tu sia sempre contro gente del tuo livello come Valorant per dire quanto cazzo costa il fall ho due streamer che giocano il fall e dicono ah il fall era l'arma migliore del gioco puttana troia basta è impossibile comprare dei fall adesso tutti a comprarli pienso a te ma che gara ma che costa praticamente uguale ma fammi prendere uno di prova scusa ma chiacca lo vende no ok me lo perso questo ah sono diversi il meccanico ti vende quello corto pskipper quello ah pskipper sia quello lungo che quello corto non lo so avevo provato quello corto me l'ho piaciuto si dai appena ho quello corto sei terrone? no devi fare tutti i raid col turbante quello è il problema eccolo lì il problema fare la pskipper mission che ti devi vestire a puff ho fatto dei player giganti tutti i contrari con corund eccetera ne lo so tra l'altro la roba del matchmaking è bella anche per quello quando tu sei una merda a livello 4 che appena inizia a giocare ammazzi quello di livello alto si poi c'è il problema degli smart ci sono mille problemi lo si l'unica cosa del matchmaking ha senso a livelli bassi cioè secondo me chi è sotto a livello 15 deve giocare solo con chi è sotto a livello 15 infatti ho fatto la mappa poi in realtà era lo scopo di ground zero cioè è lo scopo di ground zero infatti quello ci sta ah te lo vende già con il ma pensa a te te lo vende già tutto infighettato beh allora a posto cambia solo questo in teoria che non cambia quasi un cazzo 2 66 98 cambia 2 di ergo e 1 di recorse cambia il tubo ma anche sti cazzi volendo poi mettere il coso nuovo qua dietro ma sti cazzi ah se no ci sono i suoi però non cambia niente ah questo ok ok questo qua è vero che ti aumenta un sacco l'erba c'è il suo il suo qua è vero quindi teoricamente per farlo tutto bellino allora dovresti fare così eh basta non ci può cambia nient'altro c'è un sacco di recorri forse la versione lunga era meglio in effetti va bene aspetta non ci ho messo niente davanti e allora teniamo rumoroso o silenzioso lo silenzioso dovrebbe essere questo no 54 81 si così in teoria è molto molto meglio fa un casino bestia però vabbè come calcio metti l'SA BRS eh si no questo qua ma perché ho visto visto che buildavano con questo solo per quello mi è venuto il flash che era meglio non credo ho usato tipo due volte il false to wipe però io faccio schifo a sto gioco mi dà una mano no primo messaggio in chat sei terrone secondo messaggio però io faccio schifo a sto gioco mi dà una mano terzo messaggio ti banno mi sembra comunque un compromesso abbastanza accettabile io sono livello 9 ieri ho fatto un livello 27 mi sono sbroffato ma ci sta infatti è per quello che il matchmaking non serve e anche per quello esisterebbe un modo per ridurre drasticamente i cheater togliere i flea market secondo me li ridurrebbe un po' no non lo so in realtà no non è vero no non cambierebbe niente no non lo so onestamente mi ho provato a cambiare il genere di gioco in che senso io in generale cambio sempre io se non sto streamando praticamente non gioco a sti giochi gioco solo a o rpg o altre cose se non stream non so se andare rumoroso silenzioso e finché siamo a sciolen andiamo così proviamo ma però troppo le coil c'è qualcosa che non va a parte che 100k eh sto silenziatore di merda costo un botto no Dezina non l'ho mai provato dovrei è una vita che dico che ci gioco poi ogni volta lo lascio lì allora ciao orso grazie per i 13 mesi si purtroppo non va il il tts non va meno 15 di ergo no allora preferisco fare così con questo se sono silenziosa teniamo teniamo sti caricatori da 30 quindi si vendono non penso mi sono convinto di no va bene mi sono perso un attimo a fare queste puttanate andiamo con va bene ok ok armatura tutte ce l'abbiamo sto qua si ripara no pensate che seconda volta che li becco seconda volta ci muoio da stronzo anche io sono in attesa di grezonsi secondo me fra quello in arrivo è quello più promettente non me si ciao ma calistar ciao cane tutti beccano che cita i ban hardware i più no solo l'account è quello il problema caricatori da 10 mi sembra un po' esagerato non cambierebbe nulla anzi forse potrebbe peggiorare una situazione togliendo il flea perché poi si trovano solo quelli con wallah che è in bot per rubare i loot degli altri eh non lo so sì no sicuramente non lo risolverebbe però sì anti cheat come vanguard non lo so non lo so ma non piace troppo come cosa probabilmente la cosa migliore sarebbe iniziare a fare dei controlli con le stat e la gente c'è un cazzo da fare io non ci credo che non abbiano ce l'hanno un modo per controllare il come spara la gente una cazzo di intelligenza artificiale che esamina il come spara la gente il come si muove il mirino il sta traccando qualcuno dietro al muro tutte ste cose devono averla e se non ce l'hanno devono fare quello non c'è un cazzo da fare sì no il ban IP non cambierebbe molto esatto ma anche quello hardware ci sono i baracchini che metti in mezzo che simulano i vari ID diversi se metti il baracchino tra ragazzo si dice tra te e internet in pratica quindi in realtà si servono poco quelle sì esatto riescono esatto per modificare gli ID dei banhard esatto gli spoofer per quello esatto quindi secondo me il riuscire a capire come spara la gente è la cosa che serve grazie per il prime McAllister ciao Bitlocker ciao ho visto il video sul cecchino veramente un bel video complimenti mi hai divertito lo stesso tempo sarà interessante grazie mille mi fa piacere ha senso allenarsi offline più che altro seguendo i tuoi video per imparare le uscite sì sì certo i boss non sono troppo importanti quello me ne sbatterei onestamente metterei gli scav e giocherai tanto offline almeno per imparare mappe serve sì gioco a talco da qualche anno mi ho sempre lasciato perché da solo mi annoio non sapendo le basi ho sempre abbandonato l'idea di giocarci qualcuno disposto a giocare vieni su discord c'è un canale apposta siamo tipo in 4000 e rotti c'è un canale per cercare qualcuno con cui giocare punto esclamativo discord e ti conviene entrare lì ah i maggiori controlli dove siamo qua sul fliebano immediato dopo un mese ecco sì esatto sì sì quella è l'unica soluzione secondo me che serve effettivamente a qualcosa ma non c'è la nebbia ma che roba vabbè andare da sotto evidentemente non è neanche la soluzione migliore perché ti pushano sotto non lo sapevo adesso sappiamo una cosa nuova quindi da che cazzo di parte andiamo perché se vado di qua mi tritano che ci sono grazie per aver bannato i tipi che chiedevi i soldi in realtà non l'abbiamo ancora bannato mi sono segnato il nick e e e basta però ce l'abbiamo segnato appena perché non ha più fatto niente non è più entrato in nessun canale non ha scritto niente sembra non esista appena ricompare controlliamo cosa fa e in caso lo bagniamo non so mi sembra bruttanato non è giù di qua però non credo c'è uno strato è che a shonen è veramente una mappa peggiore cioè a shonen e i wood sono veramente una merda per fare sta cosa vi consigli più arma 3 o squad io ho giocato solo a squad dei due ho giocato i primi arma sono un po' diversi la community apprezzo più quella di squad mettiamola così non è esplosa sta flash ho le flash silenziose vogliamo che non siano scappati da sta parte no niente anche questa non è esplosa comunque che gioco di merda ah le flash non fa niente cioè ovviamente esplose non abbiamo sentito noi però dai che cazzo vuol dire se hai la palla puoi prendere sì sì esatto infatti se sono qua in teoria ti vedono da molto molto lontano e ti devi solo nascondere e invece sì le granate che non esplodono fan troppo ridere che palla la farò un giro nella fattoria i boom su shonen sì no questo è praticamente l'ultima che mi manca per il cap poi mi mancano un paio d'oggetti anche e tre rider ma vabbè i tre rider si fanno sicuramente più easy che i goons secondo me non vuoi sta prendendo una buona piega lo vedete male dici Tarkov ah sì bah saprei onestamente no quando uscirà c'è comunque fra due anni Tarkov avrà il suo pool di giocatori che saranno sempre quelli come squad come arma tutti quei giochi avrà i suoi 40 50 mila giocatori sempre quelli fanno un po' su e giù quando c'è il wipe tornano tutti vabbè non ci saranno più i wipe vabbè quando ci saranno aggiornamenti tornano tutti nei periodi morti invece tutti giocano ad altro sarà un po' così no mi servono infatti se non sono a custom di solito non li cerco neanche i goons perché è troppo un ortur di cazzo adesso magari andiamo a reserve e poi torniamo poi a custom non ci sarà mai più un wipe quando uscirà il gioco in teoria no ma non lo so nessuno potrebbero comunque esserci non lo sanno neanche loro stanno ancora decidendo anche loro ieri a dom i porti si chiudevano da sole ogni tanto a me è capitato di vedere i miei amici anzi di non vedere i miei amici perché erano invisibili per me esistevano perché sparavano gli scav chiudevano le porte e tutto quanto però io non li vedevo è l'unica cosa che mi viene in mente magari se era uno scav invisibile o qualcosa del genere in teoria non ci saranno più i wipe quando uscirà il gioco ma in pratica non si sa i wipe il wipe non è una meccanica del gioco ma è una meccanica dello sviluppo del gioco serve solamente agli sviluppatori per guardare come la gente livella la progressione del gioco quanto ci metti a fare le quest cose del genere in teoria una volta che il gioco esce ufficialmente non ci dovrebbero più essere però senza wipe la gente poi smette di giocare perché non c'è un cazzo da fare quindi non si sa di preciso come sarà è una clip per cui mio amico da scav immobile che cammina nel vuoto ah io c'è una clip dove giocavo con Piero che era invisibile aprivo e vedevo le porte aprirsi di scav morire ma lui era invisibile la migliore arma di Tarkov non esiste una migliore arma dipende tutto dai colpi che hai da che mod ci puoi mettere sopra cose del genere se uno ha tutto sbloccato e non ha problemi di niente al momento il fallo la mdr ma è tutto molto relativo quanto può durare Tarkov senza wipe dipende quanti quanti contenuti riescono a a buttare fuori magari ci saranno le season se qualcuno parla di season boh si all'inizio è sempre la parte più divertente in sto gioco non uscirà un nuovo update di Greyzone secondo me inizia maggio inizieranno a farcelo provare ho già fatto la quest dell'injectors e samples samples si si il wipe è tipo una season c'è negli altri giochi ci sono le season ci sta che qua ci siano i wipe non è una cosa così così strana sto merino ho visto ieri quello che a me piace tanto che uso sempre ho visto un video dove dicono che spara storto il kemi farebbe abbastanza girare il cazzo visto che l'ho usato ho usato praticamente solo sto mirino nell'ultimo mese e la cosa spiegherebbe tante cose però temo che non sia colpa del mirino in realtà mi ha comprato tutto ciò tutto ciò è così è da qua è un po' basso ci sto perché siamo vicino anche qua è abbastanza basso però è merino cristo dio vaffanculo ma pensate ma inculati sto veramente usando un cazzo di merino che spara storto no perché detta poi c'è quell'altro mi piace ah no ma anche questo allora no no non è quello guarda che questo è però strano scusa dovrebbe essere una cinquantina di metri lino se questo che figo come piace un sacco come sa spiegare perché su grand zero hanno deciso di non poterci più accedere sopra il 20 perché è una mappa esatto una mappa per chi è appena iniziato teoricamente alfa chiusa alfa pagamento dei grey zone non si sa non si sa project late a me fa abbastanza schifo ah no scusa lire gli access cioè quando entrerai in lire gli access paghi e giochi quello l'ho già detto però non so se effettivamente si inizierà subito con lire gli access oppure ci sarà un qualche altro sistema tipo beta invito che cazzo ne so no comunque sparano tutti lì ma perché sparano tutti così basso scusa 50 è l'ultimo questo cos'è una ventina ecco qui è tarato 50 non posso accendere la tv ah ok infatti 50 spara dritto ah ma pensa ti ero convinto sparasse quindi già qua sparo un po' più in basso ma pensa se no c'è sto affare che è quello che usano tutti a me non piace tantissimo la gente è impazzita per sto mirino solo perché landmark lo usava landmark shift tutti quanti lo usavano ma è un buh cioè sì ok bello è tutto l'unica cosa figa è che c'è il laser incorporato però ok ma se spari vicino è normale che si abbasso il colpo no aspetta no dovrebbe essere alto scusa ah no ok molto vicino o basso sì no comunque è tutto così uguale sì 50 metri sono tutti precisi meno no ero convinto che anche da un po' più vicino fossero fossero più precisi il delta point in realtà a me non è che faccia schifo anzi l'ho usato parecchio il delta point vabbè andiamo va bene questo mi ha capito andiamo questo costato quel drop off è il doppio nel senso che se tari per colpire 200 in realtà riuscisse a colpire 400 e ok sì mi fido anch'io non ne sono così aspetto io so solo che fino ai 150 metri puoi sparare dritto che non cambia un cazzo col mirino tarato a 50 è l'unica cosa che so però effettivamente uno shooting range più lungo servirebbe che cazzo ero convinto che fossero 100 metri in fondo cioè servirebbe 500 metri servirebbe scusa se la menano tanto con le robe delle armi e poi non ti danno il non ti danno uno shooting range decente dipende dai moh sì quello sì esatto però già se usi tipo dei bolt action bene o male sono tutti precisi chi più chi meno ma cambia allora l'altro giorno in realtà semplicemente registravo i video dello sniper mi è capitato proprio reserve che ho sparato e il colpo è arrivato tipo un metro di fianco a quello a cui sparavano che ma tanto cioè veramente un metro mi è sembrato molto strano infatti dopo ci ho riprovato ho sparato un po' di colpi e arrivavano più o meno tutti lì cioè magari un pochino no leggermente di qua e leggermente di là ma pochino pochino cioè calcola che sarebbero arrivati cioè sono arrivati a 20-30 centimetri dal bersaglio al massimo quel colpo cioè ti giuro è arrivato almeno a un metro è andato completamente a cazzo di cane non boh non so perché e quindi ho paura che ogni tanto capiti e me ne sono accorto solo perché avevo un tracciante se non avevo un tracciante magari pensavo che che se l'era preso l'elmo o qualcosa del genere la taratura del mirino cambia che se tari il mirino a 200 metri vuol dire che se spari guardando il mirino a 200 metri è preciso se spari oltre i 200 il colpo va basso se spari a 400 metri lo tari a 400 metri ma il colpo va preciso dove stai guardando il mirino ecco qua potevo venire uno silenziato per dire effettivamente si sto qua secondo me è peggiore la map prendiamolo qui dall'altra parte lì in fondo cioè sponi e muori fine sai che cosa è successo qua o te la prendi un attimo con calma o fai il giro tutto largo largo però non c'ho mai voglia di farlo quindi di solito mi metto un attimo qua sento se qualcuno si spara ok qualcuno si sta sparando e poi corro la cazzo di cane cerco di buttarmi nella stazione vecchia cazzo c'è uno qua davanti che sono vicini questi colpi a glukar mi sa che è glukar dal casino potrebbe essere glukar non me lo aspettavo lì in mezzo così direi che c'è qualcun altro non me lo aspettavo direi che sia glukar no dare la possibilità di scegliere due spawn anche sulla zona no non ha senso dovrebbero esatto basterebbe che fossero sensati gli spawn o basterebbe che te li dicessero mentre sei in caricamento pensa quanto aiuterebbe chi inizia a giocare vedere una mappa una mappa della mappa quando sei in caricamento col tuo spawn e le tue uscite quindi inizi a pensare a cosa fare in quel ride va bene va bene gioco fai colpi di parola infatti devo dire c'era una sacca qua non è che è Grazie. Non so se ci arrivo. No. Invece si. Sono qua, però era uno scout mi pare. Ok. Non eri in testa? Ma che cazzo? Eh no, perché evidentemente i mirini sparano in basso. Come abbiamo appena appurato. Che minchia. Non è iniziato. Ah, un VPO col Gheco dentro Ma come cazzo c'è vestita? Ma che è sta roba? La matura di quarto, in culo la balaclouto, giusto perché mi sta in culo Dicevano del peso stamattina Ciao Fabacotto Sì sì esatto, il tarare dipende dalla velocità del colpo, dai proiettili, dall'arma, sì da un po' di roba Ciao Bonto Sì, sto qua è super buggato, fa schifissimo Non so, non sento più niente Sembra strano però Intanto lottiamo lo scout che magari gli uccetti che mi servono A proposito Devo ricordarmi di lottare di più Ciao Manuel Sono a livello 33 con tutti i tre Ho trovato un G28 nella Marked Che faccio? L'uso con gli M80 lo vendo Se vuoi usalo Non sono proprio tier 1 con le armi Sto guai Gli M80 sicuramente sono i colpi migliori che puoi sparare C'è anche la gente a livello 70 usa gli M80 Quindi per quello non ti fa problemi Va bene, andiamo a tirare un dritto di là Per quello non ti fare assolutamente problemi Non so quanto ti dai il meccanico Se ti dà un po' di soldi il meccanico vuoi vendere o vendere? Non è né una merda da arma né l'arma Ma del signore Quindi Valuta tu se ti piacciono Ma che cazzo? Ma chi è? Ma chi è? Ma che cazzo sta succedendo? Ma questo? Ah Dio sono i tizi? Ah è vero che ci sono anche questi stronzi Ah ma saranno loro Guarda qua È il tizio buffo Ok Non ne ho ammazzati vero? Ha incazzato? No Porca puttana troia Ma è incazzato? No Oddio forse sì Non capisco No 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 Mi avrebbe sparato È incazzato con qualcun altro No è incazzato con me Ma in mezzo alla tenda Mi stai sparando Mi ha tritato in mezzo alla tenda Perché erano incazzati? Non avevo mica ammazzato Ah il primo che avevo sparato Fanculo Ne avevo attaccato uno Me l'ho dimenticato Il primo chinato A cui ho sparato Era lui Pare che questo mi ha ammazzato Dietro la tenda Dio Cristo Snego Bur Ne l'ho mai sparato le palle Però scusa Anche qua 19 il count Cioè che cazzo di armature hanno Scusa Cioè 19 il count Mi sembra un po' esagerati Non l'ho ben capita Non l'ho ben capita Vabbè Gli M62 sono piangere Boh Mi sembra che gli M80 funzionano meglio Classi 5-6 Ho capito Però io ho Gli M62 Porca troia Vabbè No ero convinto Che non fossero incazzati Perché ero lì di fianco Al tipo E subito non mi ha sparato E' stato un po' a guardarmi Quindi dicevo Vabbè E' tranquillo E invece no Invece non era tranquillo A quanto pare No mi ero proprio dimenticato Che c'erano anche Quei bastardi E' che sono su ogni mappa Non ho bene in testa Che sono su Effettivamente ogni mappa Non da fare pipì Mi accordo da scav Mentre vado in bagno Ma non so come mai Gli M62 Anche me dà l'impressione Che funzionano meno Sono quelle robe A sentimento Che provo Faccio partire la pubblicità Mentre sono FK Torno subito Oh no 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 all Grazie a tutti. 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 Di notte non li uso ma di giorno tanto non c'è un cazzo. Soprattutto su mappe come reserve che il 90% dei casi si sta sperando qualcuno ce l'ha di fronte. Devo provare a provare a provare a provare il gioco perché sta andando tutto la merda. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Tutti i cittadini di Maranello. con più diные sì, cioè, sono ormא. dal comune Sentimentalismi a parte non ammazzano esatto Sembrano più lenti secondo me solo perché li vedi Secondo me solo perché si vedono partire però in teoria In teoria no, a me lo si spera Sono live sia su Twitch che su YouTube E keeper non lo fai, non ce lo voglio Cioè ho sbloccato o la quest o la prima delle chain Cioè ho la prima della chain da Da fare ma non Non ho voglia onestamente C'è la quest e le 20 kill di Lighthouse che proprio guarda Zero Dove sono i modi di presentare i cittadini? Eh no, devi essere cinato In realtà non c'è neanche un ospedale a Maranello Però vabbè Peggio di quella c'è solo Labs Per me peggio di quella c'è solo quella di Labs Stavamo parlando Di questo? Beh sì ma Le farò poi quando Se mai un giorno non avremo più i wipe Le farò Se no Se no no Il vero abitante Maranello si partorisce in casa Esatto Si può ancora E' legale far partorire qualcuno in casa E' madonna Non me lo comprano mai quello Ma vabbè Che sta a fare? Ah ancora Beh Schifissi Vediamo via questi E vendiamo questa Ma perché la gente si compra sta roba? Non compratevi sta armatura di merda Che fa schifo Ecco Di armi non ne ho in realtà C'è una mediarre volendo Non fatto da me Perché si riconosce dal grip Però Non tu Però usiamolo Però usiamolo Ah c'è anche buon bravo Perché mi deve ridare della roba Un due tre Un due tre No non abbiamo il rig Un due tre Non lo so Torniamo agli M80 Mi sembra funzionino meglio Ma senti qua Torniamo agli M80 Una pace M62 Non ci vuoi cambiare Cose a caso Aspetta dove andiamo però Gunstracker dove siete? Ancora Shoreline Vakaboy Che due maroni Dai ma sciuola non ci crepo E basta Perché sono stronzo Vakaboy 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 sarai curioso di saperlo come si chiama l'altro uguale al 3dzip? come si chiama l'altro grande così, lo switchblade oh che è sto traffico di gatti oh ho tirato fuori del cibo, guarda di qua tutte e tre, ma questi bastardi che appena sentono che sta iniziando a mangiare vengono a rompere i coglioni eh ecco lo vanno a tenendo, che puzza di merda dovete farvi bidet sulla mia scrivania? cristo dio no baldo, baldo sta fermo, baldo sta fermo, sta fermo dove pensi di andare? non c'è spazio per te qua, non puoi andare da nessuna parte, sta fermo io ho 48 e poco per gli ovetti non mi fa scorta gli ovetti come fa a vivere così con tre gatti che li girano intorno costantemente e ce n'avete da mangiare? non è che non ce n'avete? eh, è venuto che mi guardi così ah ma andiamo su a resort, almeno succede qualcosa stai ancora una bella paracord però niente no, però nel senso, ok se è un'emergenza va bene, ovvio però era se... cazzo ne so si, poi sempre dicono emergenza, quindi in realtà ci sta però magari basterebbe chiamare i 118 e ti vengono a prendere buono, non so, vabbè ciao shadow si scappa mai da Tarkov? no e anche se mai scapperai una parte di Tarkov sarà sempre dentro di te guarda, i bastardi oh l'unica Zelda che non mi frega un cazzo aspetta che vedete i miei cheat se no che poi non c'è niente che... ciao, vuoi? 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 eh, guarda, non è roba vostra, non è cibo vostro paldo, vuoi tu? vuoi? eh, allora vedi? c'è c'è dovete entrare in piedi adesso, guarda oddio ve l'ho già detto? non è vostro, vuoi sentire anche tu Zelda? non è cibo vostro e mi? vuoi tu? no? schifo? merda? eh, lo so scusa Zelda però sono comunque qua a controllare, metti che da un momento all'altro salta fuori qualcosa per loro loro stanno qua a controllare basta, basta, via sono incazzati, si, no è Lemmy che ha la faccia incazzata, si dai via Zelda, via, 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 non puoi star qua, via, non puoi star qua, dai neanche loro mi mettono il culo in faccia, vai tranquillo neanche loro mi mettono il culo in faccia è tutto pieno di pelle adesso sono siberiani comunque perché è legica ai gatti Aurora non ho capito come c'era niente, però loro sono andati via bastardi niente, devo accorciare il messaggio perché su YouTube lo scrivi in due righe diverse e scrive prima la seconda riga e poi la prima e non si capisce un cazzo anche su strizzi sono dimezzati fps si come faccio a convincere i miei amici che Skype onTalco è un buon gioco e vale la pena di comprarlo? non lo fai, non lo fai perché non è vero sembrano gli anziani in fila le poste quando vengono superati dal giovane si è messo una ventace ma si dico provando di loro sembrano gli anziani in fila le poste quando vengono superati dal giovane con la prenotazione online esatto se vi date mangiare crocchette odio l'hanno preso da me anche tu non siberiano ma ultimamente ho sentito che c'era varia gente che ne ha preso no, sono super fighe poi vabbè non li abbiamo dovuti prendere perché c'è Aurora che è allergica quindi non avevamo alternativa in realtà sembrano gli utenti che hanno pagato Arena 35 euro ma io l'avrei anche consigliato temo anche che no, non credo averlo consigliato a nessuno qua in live secondo me dicevo sempre di aspettare che uscisse e che vedavamo com'era anche la mia compagna è allergica eh allora si funzionano comunque perché ha un po' di problemi lei ma perché è allergica a tutto polvere, graminacee, animali quindi quindi vabbè lì c'è un cazzo da fare ogni tanto qualche qualche mini attacco ce l'ho c'è un cazzo sto laser come qua ho provato ad alzare il mirino non ce l'ho fatta se no oh ho alzato il mouse di ocrystal e non è andato su mamma mia che merda che sono perchè non è andato su porca troia si vede che si è spostato un po' lui mentre miravo ma neanche strano vabbè sono scarso e basti immagino ma che spawn era per essere già lì eh dove posso essere spawnato eh gioca veramente bene mica troppo l'ho sparato madonna sto qua era praticamente fermo sono riuscito a spararli nella schiena no tanto stavo andando via che se ne fredda però che palle veramente una merda però è uno scav direi che sia uno scav si non era nessuno sicuramente io ci muoio da quello la sicuramente fra un po' me lo ribecco e ci muoio ma visto che le flash sono silenziose non vorrei che anche se c'è qualcuno che urla non lo sento era un player era un player era un player quindi qua sarà no 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 non voglio star qua cazzo ha rifatto il tutto qua non so com'è fatta sta montagna di merda ciao alessandra non la può vedere come è fatta non la può vedere come è fatta o è uno scav che mi ha visto dietro al sasso o è un player che mi ha visto dietro al sasso non so se è meglio devo togliere cazzo cazzo mangiare qua davanti sto scomodissimo no non ho letto del nuovo boss però sembra incazzato duro le orari in cui sono live sono un po' a caso perché non è una mia priorità al momento solitamente sono in live a quest'ora comunque dalle 10-11 al mattino fino a primo pomeriggio non tutti i giorni di solito faccio tre giorni a settimana una volta erano lunedì mercoledì venerdì poi vabbè ieri era festa quindi l'ho fatto oggi prenterie e giorni sono quelli beh io lì sopra non ci vado di sicuro in realtà ci assomiglia a Gary Scott è vero? esatto mi ha dato tutta una merda sto raid e sono veramente imbruttito non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è con TarQ 5 bisogna spanare orario in cui viene collato indifferente giorno a notte in che senso? Dici Goons Non lo so perché non li ho mai reportati Questo gioco ha un'infinità di problemi Confermo Confermo Andate via tutti i gatti quando hanno visto che non c'era da mangiare per loro Adesso sono qua dietro che si lecca il culo Lemmy Piuttosto che mangiare il mio pranzo si lecca il culo Poi dicono che sono intelligenti Non lo so onestamente Io vado lì e guardo in che mappa dicono che sono E' tutto quello che Per cui uso il sito Ciao Bedra Qualcuno prima mi ha chiesto come era andata Dato l'esperimento di YouTube Bene perché ho capito cos'era che mi faceva crashare Che era la cosa principale Un atto 2 sono tanti sì Sono decisamente tanti Credo che Cavan abbia qualcuno in più Anche Piero Però forse sono 12-12 Non ci sono più TTS Non vanno non capisco perché Li ho disabilitati un momento Non ho Non ho capito perché Non è il TTS è proprio la Tipo traccia audio Cioè tutto quello che c'è su quella traccia audio Che sono anche gli alerts dei sub Non vanno E non ho capito perché Oh figlio di Ehi Vabbè vedevi da lì Era su una finestra O era sotto Era stato sotto Mmm Sì Sicuramente vedrò qualcosa Mi c'è da sotto Mmm Però to' quello sbagliata Ho sparato saltando E ho rotto Con la sbagliata Stato bene No neanche io Beh esoscono me Esoscono me a caso Non c'ho un cazzo da fare Cioè adesso mi hanno detto Che erano a shoren E effettivamente ci sono Probo Non c'è niente di ricorda Eh lo so Però dai Cioè C'ho cazzo di fare il giro Succede mai niente Comunque per spararmi da lì O era affacciata una finestra Strano Piano terra non c'è Se non l'avrei sentito Ho visto adesso Fuori in fondo Poteva essere anche fuori No gli spari Mi sentivano proprio da dentro Io li ho trovati Sì Prima sì Sono morto da idiot Esatto Vedi non c'entra mai nessuno Quindi Psicologia inversa Io c'entro Piano terra non c'entra mai nessuno 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 non so riconoscere le armi faccio super schifo riconoscere le armi no ma ci sta più o meno era quella tipologia d'arma quindi direi proprio di sì no non era sanitar comunque sanitar mi avrebbe ucciso era un sr con caricatura da 20 e grip storto ok adesso vediamo ciao max pain grazie numero 8 per i 13 mesi ah dice che entriamo schettieri sì sto più o meno cazzeggiando in realtà per un svd ma di solito è l'unica che riconosco l'svd è quella che conosciamo tutti per colpa di sturm adesso andiamo a cercare era chiuso una stanza cazzo sta mettendo le radici questo non si sente neanche non si sente neanche no la ringhiera era coperto dalla ringhiera che coglione pensa a te ah dove andò sotto l'ho convinto tornarsi indietro per ricaricare ah l'ultimo secondo era l'icoperto dalla ringhiera pensa a te non ho proprio visto quando mi ha sparato ah dove uscire basta ho giocato malissimo ah ma sto rider era era partito male si sapeva era imbruttito finca proprio in testa così va bene no ma io ho sparato non ho proprio visto non ho proprio visto quando mi ha ucciso era completamente coperto che fucile sarà in realtà era una k random però probabilmente ne ho usato un'altra ah ho giocato proprio male ho dormito ho giocato da schifo cosa facciamo intanto finiamo di vendere due robe ah ne torneremo lì adesso guardiamo se mi dice dove sono i goons ma direi che torniamo lì un'altra 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 Ok, stiamo parlando. Dark of Gun Tracker Ancora Shorlin Cidri Goons con i Tots Ma quando avranno il 100% di spawn rate Magari sì, adesso cazzo, già non riesco a trovarli così Già non si trovano così Butto investimento 30 minuti fa Eh, infatti è per quello che non mi convince molto E' morto da Pir contro uno che non sapeva assolutamente giocare Va bene Succede anche questo Sì, facciamo il giro a reserve Mentre aspettiamo un nuovo avvistamento Mentre aspettiamo che qualcuno li trovi Mentre aspettiamo un nuovo avvistamento Cazzo Ecco, non voglio cercarlo Ah, grande qua Guarda che devo comprare Perché 120k Dai player Madonna Se accendo i fallo senza sparare nessuno mi attaccano Credo di sì Sì perché vedo che la gente li ammazza tutti Prima di accendere i fallo Quindi immagino di sì Grazie a tutti Ok, apriamo Zyno Beh, in realtà non mi serve Se ammazzo qualcuno Ruberò il lore Se invece muoio non mi serve Quindi siamo a posto No No Ciao Ciao Chris Smero Ciao Luca Mitico Berkut Sì Berkut L'unica cosa che mi serve L'unica cosa che mi serve è il pupazzetto Il lootlord L'unica cosa importante che mi serve Da lootare adesso Ieri ho rusecato male E ho ripato il PG E ho ripato il PG End of Tarkov for this while Ok Potevi Smettere di giocare e basta Però ok Capisco il Il significato di un gesto forte Sì Ci sono avvistamenti Di nessun tipo A momento Adesso compro i Golden Star Balm Su Amazon 10 euro alla fine ci sta Dai Ce ne sono addirittura 4 Se le recensioni Sono legate a Tarkov No E' efficace per Micrania Invece no Comprato per divertimento Cosa vuol dire? Ciao Oscar E comunque Tutti gli avvistamenti Sui siti che ti dicono Dove sono i Goons Sono Forse affidabili Forse no Quindi Guardi quando finisce Sto evento No Io avrei detto Ieri sera Ormai immagino Che duri fino a giovedì O comunque prossima patch Cioè prossima mini patch Secondo me comunque Teranno una settimana Non di più Magari sto weekend Se vuoi sto weekend Però diciamo che se la maggior parte della gente Non vede l'ora che finisca Devono un attimo Rivalutare come fa gli eventi Secondo me Mettiamola così C'è la chat che è Oh la Così non va sopra Il numero di youtube Che mi dava fastidio No 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 Ma Dio Cristo Ma proprio di fianco Ad uno psicopatico Mi dovete far spawnare Ma siete pazzi Oh Vabbè niente La chat è un po' tagliata Dopo Metterò a posto Questo evento È a caso Non Sì Non si sa bene Perché cosa sia O che cosa Però Non è fine wipe Monshine vendo Prova la scaf case No Se devi fare soldi Vendila Cioè ci perdi 90% dei voti Ci perdi Con il Monshine In questo gioco In questo giro Giochi nei 7 europei Non mi ricordo Non so cosa ho settato Al momento Di solito Lascio auto Comunque Recensione francese Su Amazon Ottimo antidolorifico Recensito in Francia Acquisto verificato Sono riuscito a correre Con una gamba rotta Grazie a questo prodotto 10 usi Applicati sulle labbra Non è facile Da aprire Ma fare solo Fuora Chi sta Prevedibile Che La maggior parte Fossero recensioni Per Tarkov In realtà Tante sono normali Non sono di Tarkov Non sono di Tarkov Non sono di Tarkov Con una gamba Questa era sopra Mi sa che c'è qualcuno che sta arrivando giù Di sicuro non l'apprendete da me come fare i rider, se no altro che morire ultimamente. Eh lo so numero 8 però ho provato a giocare un server, no ok col ping alto, cos'è che era successo? Però non mi sembrava cambiarsi un cazzo neanche lì, il risultato era quello. Sedito metallo, però sì in teoria sapevo. Però su Shaolin per adesso è sempre funzionato, anche col ping basso è sempre funzionato il controllare il packet loss. No comunque non sono spawnati. Che palle! Cerchiamo un gas analyzer. Che ti devo dire? No adesso usciamo dai effettivamente. Me lo crafto. E questi mancano. Tre rider e goons. E poi però mi servono due o tre oggetti. Che ovviamente sono stato furbo e non ho tenuto da parte perché si sa che è sempre così no? Non ho assolutamente idea di che chiave sia quella. Sì come a usare Middle East non funziona sebbene il ping sia 80-100. Eh non lo so, anch'io avevo qualche dubbio. non mi convinceva molto onestamente. No non arriva nessuno qua. Sì. quindi si me lo sto un po sbattendo e sto entrando un tracker mi dice che sono lì corro e ci sono bene se no pazienza giocherò da let loose? probabile prima o poi probabile come calma sto buon che si particolarmente beh immagino che sia una mappa un po morta da essere serve perché cazza che ci viene non ha molto senso venire qua che PC hai? punto esclamativo PC dovrebbe essere punto esclamativo PC c'è la neve stava nevicando sotto i bunker veramente next level quello neanche dentro gli edifici proprio sotto i bunker la server è morta se e solo se non viene il signor glukar ah si si beh ovvio che tutta la gente che sta cercando i boss per le queste adesso quello si ok no sono sempre loro Fabio sono sempre loro bisogna che li lasci stare quegli idioti mi devo mettere in testa che ci sono quei bastardi per sto evento porca puttana ce la faccio eh ah niente devo andare a D2 adesso ah su di là non ci vado sono nascosti sotto i sassi il fatto che la server sia vuota sai cosa vuol dire c'è la gente che è D2 che capra la ma per comprare 2 milioni di zucchero ieri ho visto glorious che ha comprato 5 milioni di cms ha comprato un cms che costava 5 milioni 20 mozzafiato visto le guarda ma come si fa si va di 2 che vuol dire morire visto che non non abbiamo sentito nessuno per la mappa però vabbè tentiamo la sorte dai trovo stancrat probabile molto probabile 5 milioni di cms ma si ha ordinati al contrario di prezzo e ha comprato il primo senza guardare 15 milioni di crostini 5 milioni di tasse che lol ecco qua proprio quello che serviva una rilassante estrazione a D2 con la sirena in sottofondo ah fanculo ah beh oh è capitato a tutti eh non è che è capitato a D2 con la sirena in sottofondo è capitato a D2 con la sirena in sottofondo ah può essere se sei 28 minuti vabbè tanto sto uscendo faccio un altro giro in caso vabbè che non può tornare a scatto giustamente ma è capitato a D2 con la sirena in sottofondo è capitato a D2 con la sirena in sottofondo restream supported platforms supported platforms no non c'è non c'è però c'è il custom no puoi farlo perfetto no posso andare live anche su pornabsolite quindi ferita su Radio Maria sì quella è quella più importante di tutti stanno andando i raid na merda come sempre andando no sono morto un paio di volte davvero idiota e una volta anche dai goons quindi sì devono andare molto meglio ma è talco ci siamo abituati mi sono sparato la guida di 2 ore è più complesso quello che pensavo e fidati che non è niente appena inizia a giocare che ci capisci ancora meno io contro sti cavoli di scav nuovi non riesco a uscire in vivo eh ma non non ammazzare infatti fatti i cazzi tuoi credo la tattica numero uno sia infatti fai i cazzi tuoi ieri hanno fatti 25 l'ho finito morto ah ma quindi spawno all'infinito può essere beh sì comunque fatti i cazzi tuoi c'è proprio tattica suprema numero uno quella preferirei far cambio con oltre due ore di cliente a cui il tecnico del gestionale ha sbriciolato la rete interna il tecnico del gestionale sarei molto curioso di sapere cosa è successo ti dirò la verità comunque anche noi quando facevamo noi quando facevamo io ho fatto il sistemista no solo per aziende cioè in teoria poi vabbè c'era anche qualche amico da cui andavano i capi ciao atrix però in teoria andavamo solo ad aziende e quindi tantissime volte capitava di andavi lì e i tipi ti dicevano no ti faccio parlare con quelli del gestionale perché praticamente dove non sapevano un cazzo quelli della ditta e e quindi era un allora o tipo ti qualizzavi contro la ditta e c'era il tecnico di là che ovviamente non lo sentivano e quindi ti diceva sì ho capito però fan sempre casino non riescono a fare un cazzo fanno solo dei danni e tu eri lì al telefono eh sì 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 può essere può essere così facevi finta di niente e cercavi di mettere a posto le cose oppure c'era loro che davano la colpa a te e tu che davi la colpa a loro era un cazzo di una guerra era una guerra però era divertente si dice peccato ma non che era la cgm i gestionali sono non lo so io me li sognavo la notte perché poi sono tutti quei cazzo di programmi che madonna sembrano usciti dagli anni sessanta non si capisce un cazzo e se per sbaglio guardi male il pc se ti presenti davanti al pc e lo guardi dall'angolazione sbagliata crolla crolla tutto il gestionale non va più un cazzo di niente perché è tenuto è tipo Tarkov sostanzialmente i gestionali sono i Tarkov dei software stanno in piedi non si sa come continuano a funzionare solo se non fai niente di diverso da quello che gli sviluppatori hanno pensato ma senza la lore e non sono story driven ricordiamo te lo siamo così la cazzo di cane ma qua prima c'erano gli stronzi devo ricordarmi che sono presenti quegli esseri strani con le maschere vive gestionare in cloud si decisamente chiaramente nessuna palla non vedo quasi nessuno ultimamente quanti scav e quanti player random non lo sai ci sono i numeri quando entri tipo da indicativamente una decina alcune mappa queste mappe vanno da 8 a 12 altre da 10 a 16 e scav non lo sa nessuno un po' Eh c'è qualcuno che è già sceso Eh senti E sta ammazzando i miei rider Bastardo Comunque i rider sono come i boss Tutti li cercano per le quest Era fuori sta granata Con le cuffie senti meglio E meno rumori sottofondo e senti di più le cose Senti più bassi i suoni alti Senti più alti i suoni bassi E' uscita la release single player con ground zero su spt E' uscita la release single player con ground zero Ah ok Da notte ok Ok No ma forse volevo tomare io Non era mica per quello Ah scenderà qua muoio Fuck E i pistol case cambiano In base a se c'è tanta gente che sta facendo il trade oppure no Ma forse non sparavano qua quindi No secondo me si Non volevo fare questo Ma niente Quanto resta di gioco Boh troppe 4.000 credo Più o meno Guarda che si vede 3.860 Ah le pistol case piace cambiare esatto Quanto resta di gioco Quanto resta di gioco Oh caz ma sono qua Mi rai in testa Mirare in testa con quest'arma cortesemente Grazie a dio ce l'abbiamo fatta Mica ne potevo più Non ne potevo più Ah va niente Dico se riesci a fare la stash al 3 no Bah c'è 70 milioni Allora fa quello che ti pare C'è 70 milioni Fa il cazzo che ti pare Ho comprato un cazzo di mouse da 36 grammi Cazzo di mouse da 36 grammi Ah col filo No ma sono Sono puttanate quelle Un mouse quando è sotto Sotto i 60 è leggero Se uno vuole un mouse leggero Basta stare sotto i 60 Se è posto Ma anche 70 A me piacciono i mouse leggeri E sotto i 70 Van benissimo Poi vabbè Cambio da persona a persona Ci mancherebbe Però a un certo punto Che sono Pugnette mentali Anche io li usavo pesanti Una volta Poi invece Usandolo veramente Tanto Sono passato a A volerli un po' più leggeri Se lo zanno un po' più grande Faccio accomodos Le zobe si sono fighe Sono molto fighe Un po' più grande Sì dipende uno per cosa lo uso Comunque Siamo sempre lì Va molto a gusto personale Dipende che tappetino hai Dipende da tante cose Ma questo Ha uno scav Cosa sta il caricatore Questo qua Ma no Però capace che costino I quake maker In realtà Ma che se ne frega Un altro Ma che se ne frega 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 un po troppo pesanti il topo di tessuto ma no no Batman ah perché non è la sub c'è la muttuna laser viper tutto è figo il viper si io ho preso il kizona una roba cinese copia dell'ogite che è perfetto guarda 30 euro mi durerà la metà ma quando si rompa ne compro un altro siamo perfetti possiamo andare via ho fatto quello per cui ero venuto guarda che in effetti sembra che fa così nooo dai adesso devo uscire che troia ah merda sopra c'è il rischio che ci siano i tizi ah sopra si sicuramente ci sono i tizi e sicuramente li sparo perché sono stupido e sicuramente gli altri mi ammazzano vabbè tanto non sto tirando fuori roba però mi sta comunque in culo mi sta in culo quasi quanto sto casino mannaggia voi e all'aereo eh lo so ma anche prima lo sapevo e gli ho comunque sparato perché sono stupido perché ho visto una persona ho sparato anche perché poi sono stronzi perché ti guardano ti seguono con lo sguardo e quindi non è come lo scav che vedi qualcuno girato dall'altra parte stai tranquillo questi qua sono lì che ti fissano cazzo mettono un po' di pressione però sembra che non ci siano sto giro un po' di pressione ieri uno mi fissava in bagno dovevi farti pagare i silenziatori sono usciti di moda in che senso questo wipe sicuramente sono meno meno in meta che negli anni scorsi quello quello si però no in tanti continuo comunque ad usarli impostazioni grafiche uso ma le uso un po' strane per la live alcune impostazioni che tengo per la live non sono quelle che consiglio o quelle che uso io ho un video sulle impostazioni prendo un paio di settimane che trovo PMC quasi solo senza silenziatori no no io ne trovo comunque tanti col silenziatore secondo me è solo un caso però i colpi dicevi quakemaker costerà qualcosa sì ok ottimo ma ne ho tirati fuori per un motivo i luger invece insomma dai abbiamo visto di peggio gli affari 40 oh no fa di moda la mia P5 guarda si è distrutto questo si ho fatto la tua schifosa quest ah ma ha dato un termico grazie ti voglio bene come non detto ah cazzo c'è anche questi questo qua questo qua questo qua zucchero zucchero cioccolata colpi vendiamo no la piassa lo vendo va bene credo che non costi niente lo venderò ragman probabilmente questo mi sa che lo cestiniamo perché è un po' rotto sì 90 andato ha fatto il suo ha fatto un cazzo ammazzato tre rider proprio no guarda perfetto ah no merda era già moddato come ne ho detto vabbè niente paggiamo via sta roba non so dove andava c'era bp7 in realtà allora a me mancherebbe solo una missione adesso ancora sciorda in sti figli di una buona donna fuck dai andiamo a custom a caso sì chi se ne frega andiamo a custom a random giusto per usare mp7 intanto devo cercare gli oggetti quindi in realtà va bene anche lì in realtà no perché è una merda però non c'è tutto sto loot ma vabbè questa chiave cosa che era schifo ok come ne ho detto ancora il modo migliore per fare soldi non morire fatti una mappa scavatela esatto basta che non muori basta che entri ed esci senza morire poco alla volta fai soldi e poco alla volta impari sempre di più allora scavare su factory in realtà è comodo per il tempo però se non ci fai dei gran soldi io se è il tuo primo wipe sfrutterai lo scav per imparare streets la scuola la cosa migliore dici scavabast no no entra con dei kit economici e cerca di non morire siamo sempre lì se entri tiri dritto all'uscita luti quello che trovi per strada fra te l'uscita ed estrai fai soldi e poco alla volta impari a farli un attimo in bagno ok ok grazie a tutti mp9 ti piace va bene come arma economica ma non è una gran arma i tappetini, i tessuti, il top sono gli artisan eh sì l'ho visto anche io mai usati ma dicono tutti di sì solo che esatto questo era un botto no io avevo il allora quello che ho usato fino adesso era l'acqua control 2 e era ottimo ed era un po' lentino invece c'era quello là non mi ricordo come si chiama eh land gear qualcosa land gear ed è velocissimo ancora dura ed è una bomba però quando mi voglio fermare si ferma questa è sicuramente la configurazione migliore che ho provato fino adesso nai 3 di artisan eh ma te c'hai soldi sono povero no è che la verità non ne voglio che costano troppo perché ho paura che si distruggano un po' per i gatti ho preso questo apposta perché costa tipo 20 euro forse ho pagato meno di 20 euro in sconto tipo 17 18 una puttanata così perché si rovinano uno perché ogni tanto ci vado sui montagna comunque lo metto nella borsa e porto in giro e due soprattutto perché ci sono i gatti e quindi tra una cosa e l'altra finisce sempre che lo distruggono magari passeggiano qua sai quando si stirano che buttano le zampe avanti si stirano no culo per aria zampe in avanti ogni tanto capita che lo fanno qua sopra oppure ogni tanto da qua dalla mia destra dove ho il mouse salta su Lemmy e si aggrappa e quindi tira giù il tappetino quindi prendere un tappetino che costa tanto per poi vedere Lemmy che ci si aggrappa stile Raleone Melodisfa no anche no se no poi mi tocca mettere il gatto nel forno e mangiarmelo quindi rimango con questo che in realtà è una bomba mi sta piacendo un sacco come cazzo è un Razer ah Gigantus ok fa il nome di merda però si Razer Gigantus non apprezzo la sua malvagità ma se la sua malvagità non mi costasse dei soldi non sarebbe un problema quando invece è iniziato a costarmi dei soldi insomma un incaricamento di FTA è tempo di farci dove c'è temato pure tempo sì decisamente infatti è da streamare dico sempre che è un ottimo gioco perché c'è un sacco di tempi morti non per colpa tua nel senso non è che dico adesso per due minuti non faccio niente ne metto solo a parlare invece in incaricamento cosa fai te la cazzeggi un po' ti rilassi un attimo se invece giochi gioco che non sono in live bestemmio perché sei lì che dici no entra per dio che due maroni ah c'è ancora lo zeno piccolo vabbè testate contro il soffitto mi sto teleportando in giro perfetto ma penso oh gatto vai aumentiamo la nostra collezione di gatti comunque da la settimana prossima in teoria se tutto va bene adesso finisco due robe di sistemarmi gli artisan di compri in yen quindi aspettando il momento in cui i carri non li paghi quanto gli altri solo che la spesa della dogani prima l'ho pagato un centinaio che doveva costare 40 la seconda volta con 90 euro ne ho presi due ah un po' ma pensa c'è Sturman ciao Palma allora dicevo settimana prossima adesso finisco di prepararmi due robe poi volevo iniziare con cioè con podcast perché alla fine è un podcast non lo so vabbè comunque con talkshow barra podcast quel cazzo che con un po' di notizie e altro una volta alla settimana dopo ci sarà una live dedicata a quello un paio e non so bene quando farlo però quindi se avete suggerimenti fatemi sapere l'idea era o lunedì mattina o venerdì mattina che sono le due giornate in cui solitamente c'è più gente perché inizio e fine settimana quindi la gente non c'è voglia di lavorare non che gli altri giorni ci abbiate voglia di lavorare però quei due giorni in particolare perché sì voglio farla in live ovviamente venerdì mattina top anche secondo me ho questo feeling che non so venerdì mattina che mi piace la gente è più tranquilla lavoro sai proprio cazzeggi che non fa niente quindi sì i venerdì sabbatico esatto esatto proprio quella la sensazione che sembra un tempo lavoravo anch'io e anche per me era così venerdì proprio l'ultimo giorno te ne frega un cazzo mi chiedevo sono effettivamente così importanti i silenziatori tanto alla fine ti sentono comunque ma cambia qualcosa per i bot no per i bot non cambia niente no scusa si cambia perché se hai se non sei silenziato arrivano da tutta la mappa perché ti sentono tutti tutti quelli della mappa arrivano però vabbè non è importante non si usano per quello per i bot sti cazzi quello che succede succede sono sono importanti perché in realtà da lontano non ti sentono e soprattutto chi gioca da tanto cioè si adesso qua noncino riesce a traccare una persona vedi tipo questo qua che abbiamo seduto sparare non ho assolutamente capito dove fosse in realtà ok è tipo là più o meno a ruof da quella parte se io farò un po' quell'arma la sento che è tipo construction e poi ti sento che sei out gas so che strada stai facendo e quindi se anche io sto andando in là magari andiamo via paralleli per la mappa però io so dove sei tu riesco a traccarti in giro per la mappa e quella è probabilmente la cosa principale per cui si usano i silenziatori e poi comunque su mappe tipo calcola che ti sentono fino a 150 metri più o meno dipende poi da un po' di cose però ho fatto delle prove e fino a 150 metri senza silenziatore ti si sente oltre no quindi se uno col silenziatore spara a 150 metri non lo senti 150 200 comunque giù di lì soprattutto per mappe come Wuzza Schollen conta molto quello si finché sei a custom vabbè conta il giusto mettiamola così c'erano delle altre chiavi qua delle altre giacche il motivo principale comunque per cui si usavano era per le statistiche perché toglievano tanto l'inculo quello era il motivo principale adesso non ha più senso per quello quindi c'è molta meno gente che usa il silenziatore anche quando guardi le build tipo di streamer simili in molti adesso non li usano più proprio per questo motivo lo youtuber non è un lavoro vero esatto non è possibile che becchi dorm se i bunker vuoti dammi un po' di culo non c'è nessuno ai dorm su ultimamente può venire qua non c'è mai nessuno quelli che dobbiamo farci le quest l'hanno già fatte e gli altri non ci vengono perché non succede niente il tuo mp7 costa meno del silenziatore meglio fare due writes senza silenziatore uno con a parte che non l'ho fatto io questo qua l'ho preso da qualcuno quando lo faccio io non ce lo metto il silenziatore sul mp7 per dire sicuramente sul mp7 toglie del recoil quasi sicuramente non c'è niente da metterci davanti però sì in teoria toglie un po' più di recoil che non averlo aspetta se ce lo togli c'è sotto il suo pistolino o è no si vedi qua lo toglie toglie anche tantissimo ergo devi continuare a controllare anche quello perché se l'arma ha tanta ergo tipo 68 così no e 41 perdi poco in culo però un bel po' di ergo però va comunque bene quella della mp7 se usi un'arma che ha l'ergo bassa non metti il silenziatore perché te ne toglie ancora di più se usi un mirino lungo io tendo a non metterlo adesso anche se la regola sarebbe che mirino lungo sparo da lontano meglio essere silenziati quindi in realtà va un po' a gusto in base a cosa devi fare sostanzialmente cioè sono tutte queste cose da tenere in considerazione l'ergo cosa devi fare se pensi di cecchinare oppure fare fare dei raid da vicino cose simili ciao niente market ma intanto c'è una persona quindi dobbiamo prima risolvere questo problema due persone corretto no no merda no non saltare sono idiota mi sono mossa a casa non volevo fare quello che ho fatto salta sto cazzo di vaulting di merda no di vaulting cazzo 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 quando è passato credo mi avesse visto quindi ho 3 stone indietro devo fightare invece poi è andato avanti e quindi ciccio Grazie. Sarà tutto due lì. Poi ce ne sarà uno a destra. Sì, non è vero. Sì, non è vero. non volevo scavare per quello che non volevo. Invece a sinistra anche lui tira fuori la granata è una perta loro il mio leone è quello che testava di inculare il mio leone 2.20 come dogma si iniziatore si sempre si dipende un po' da cosa devi fare arma cosa devi fare porca sono pesante già di livello 7 si non è che non erano svegli perché ho giocato malissimo anche quella è mia anche questo e uff bastardi ci vedo qualcuno no come sta cazzo quello niente questi direi niente flare lo andiamo a tirare perchè no ora aspetta ora aspetta non ora Ah ma proprio Ah ma di chi cazzo 19 su 39 Ok come non detto Scusa No ma non neanche fanno i raid No che se ne frega Direi di anche quello allora Scusa Usiamo il flare Ma no dai siamo già pieni imballati Non ho voglia di diventare scema Questa roba del volto Devo togliere il pulsante Perché Fa risalto dalle scale Qua dovevo saltare Invece non l'ho fatto Perché Si vede che non l'ho mollato Abbastanza in fretta Ho l'abitudine di tenere premuto Il salto Finisce così Mi rompo le gambe Sicuro per aver fatto salto Adesso si Sono pesantissimo Tutte e due La perfetto Ciao rock Masellate via No ma mi metto a posto Tanto Avevo già la splint Che avrei venduto Che era 3 su 5 Solo che se tolgo il pulsante Del volting Dallo spazio Non so dove metterlo Non so su qual ha il pulsante Però così è fastidioso Perché in alcune situazioni Anche quando scendo ai bunker Di reserve C'è il punto in cui Vorrei fare il salto Invece Cerca di scavalcare Cioè non cerca Scavalco Per scendere Dalle scale di metallo Lì sotto nei bunker E Mi dà abbastanza fastidio Prova Adesso ci pensiamo Sovramente Qui dove metterle Pussanti Su questo gioco Ce ne sono troppi Stanno sparando qualcuno qua Stanno sparando qualcuno qua Stanno sparando qualcuno qua No No Stanno sparando qualcuno qua Grazie a tutti. No, potremmo anche fare l'ultimo. 40? Madonna mia. Pazzi, te pazzi. E i leoni invece non costano un cazzo adesso. Ma il gatto si mette una correzione di gatti. Se il gioco me lo permette. Grazie. Cazzo, è andato sotto. Quindi questo... Aspetta, quella è close. Questo? Sì, questo è sotto, quindi non va bene lì. Qua? Ok. Tutti fanno i right fio, ok. Quanto costa? Pensa a te, non si era messa nella pouch questo? Perché non si era messa nella pouch? Ma con le ricerche dei Goonies, che sono un coglione, ci sono morto stamattina perché sono scarso. E li ho trovati solo un ride, per il resto ho fatto altro, ho finito i tre rider. Finalmente li abbiamo trovati, che anche quelli sembravano non esistessero più. Ok. E poi adesso sto facendo il giro cassaforti a custom perché mi serve qualche oggettino. La VT non si vende, vero? Mettiamone la rastrelliera di armi dei Senza Dio. Devo mangiare per? E ci facciamo un altro giretto. Ciao Gian, grazie. Eh, non va il TTS, non so perché. Dall'altro giorno ho smesso di andare, non capisco il perché. Ed ho un problema, temo di OBS, perché non è proprio il TTS che non va. Sti Goonies hanno il Loro. No, è l'ultima quest che mi manca per fare il K, l'unica cosa che hanno. Mannaggia loro. Perché sti poi ti faccio ripartire ad assurdo il tuo alert come prova. Ah, ok, no, non arriva proprio invece. Non arriva proprio l'audio degli alert. Forse è questo. Continuerò a spammare il tuo alert per provare. It's not a side to any audio tracks. Va bene. Ma no, in teoria no. Ah, invece sì, mi sa. Allora, Aux, Alex, ok. Ma no, cioè, pfff, che palle. Va bene, oggi ci riprovo per i fatti miei. Dai, non sto perdendo tempo adesso. Sono i Goonies del film, esatto. Questa è la lore degli Goonies. Petizione alla BSG per rendere la lore ufficiale. Quella dei Goonies di Rogoredo. Sono a chat. Sono stato a Milano sto weekend, tra l'altro. È sempre un'esperienza mistica. Sembra di entrare in un universo parallelo. Com'è essere a Caracas ormai? È sempre un inferno. Per ogni volta che devo andare a Milano è un inferno. Cioè, è una sofferenza fisica e mentale. È veramente una roba allucinante. Non dirò a Dani che poi sennò ti chiama Barber e inizia a fare verso. Ma, guarda. È vecchio e milanese. Figurati se puoi fare qualcosa che gli va bene. Per 20 minuti riprendo a lavorare, che schifo. Già. Già. Purtroppo sì. È meglio usare fullscreen o borderless? Ma... Teoricamente fullscreen, ma ormai non cambia niente come prestazione. Borderless riesce a tornare a Windows più facilmente. Tipo, devi guardare una mappa o qualcosa. Però... È l'unica differenza ormai. Consiglio borderless se non... Fai due prove. Se non hai cali di prestazioni, gioco a borderless. Non ricordo in che zona sei tu. Io sono di Maranello. Nella terra dei motori. Nella capitale della terra dei motori. Lavorare fa male, sì. Per fortuna è un vizio che sono riuscito a togliermi. Anche entrare in ride fa male, vero Tarkov? Dai, cinque minuti per entrare a custom. Ma cos'è? Ma che cazzo è? È un vizio come il fumo, esatto. E fa anche peggio del fumo. Tutti sti morti sul lavoro. Dovrebbero abolirlo. Dopo cinque anni di lavoro direi che mi merito la pensione. Se ci aggiungi uno zero, forse sì. Forse. Io ho un problema, mi piace la birra e per berla servono i soldi. Eh. Eh, purtroppo... Sì, purtroppo... Non ho soluzioni al tuo problema. Mi spiace. Sì, purtroppo... Potrebbe essere facile da soli. Ah, cazzo. La soluzione mica male, quella in effetti. Te la fai... E poi... Quella che avanza, se ne avanza... La vendi. Così fai pure dei soldi. Ah. Ma pensa, cazzo. Altro leone. Cazzo, c'ho il diario del Rai di prima. C'ho anche il GP Coin del Rai di prima. Cazzo. Perché non posso metterli, scusa? Ah, perché non le fanno le Rai, giustamente. Allora, questo lo mettiamo qua. Verda, non ho svuotato la document case prima. Vabbè. Siamo furbi così. Cosa ci vuoi fare? C'è che è furbo e che è il pisallo grosso. Non si può vedere tutto. Non si può vedere tutto. Non è il GP o mai? Eh. Non esageriamo, dai. Le, guarda qua che bella cassaforte. 600 rubli dentro. Che schifo. Guarda qua, cosa c'è? Le giacche. Oh, che laggato che mi ha tirato. Io non sono furbo e non ho il pisallo grosso. Cosa sono? Non saprei rispondere a questa domanda. Sono una nuova specie e non ho ancora scoperto. Ah. Ogni tanto mi riguarda i tuoi video su Rings of Power. Mi fanno piegare bene anche le chiacchiere che hai fatto con Yakity Yak. E' stato divertente. È stata una bella esperienza sicuramente. Per una volta entrare in uno studio fatto bene. E' stato divertente. Invece che fare la roba in casa mia. Non è vero, mi piace molto di più fare la roba in casa mia. Adesso esce la seconda stagione di House of the Dragon. Ah, giugno tipo. Ormai ci siamo. La prima mi era piaciuta un sacco. Non so mai se fare... Perché in realtà a Lua di serie ultimamente non ne guardo. Sì, sì, la prima è super figa, guarda. Bellissima. È al contrario di Rings of Power. Non so mai se fare video su serie tv o cose simili. Perché non so se possono interessare o no. Però mi piacerebbe. Ho fatto giusto quelle perché... Vabbè... Signore di Anelli e... Game of Thrones, dai, cazzo. C'è bisogno. Per forza. E adesso mi sa che anche per la seconda stagione la farò. Cioè non di ogni singolo episodio, perché... Vabbè. Non ho un canale che parla di quello. Però... Ci sta. Tanto volevo fare tipo... Simile recap della prima. Della prima stagione. Anche perché pensavo di riguardarmela. Scusa meno quando esce la seconda mi ricordo cose, perché se no... Ho già cancellato tutto. Io non mi ricordo un cazzo. E' molto emozionante sta salutata ai dorms, devo dire. C'è n'è anche la macchina. Andiamo a guardare il cazzoforte, direi. Adesso troviamo qualcosa di utile che ci serve. Se ne usavo a Pablo ne potevo fare di più, sì. Il piano infatti era farne una per episodio. Un video per episodio. Piano... Piano iniziale. Poi invece, sì, mi sembrava... Non lo so. Non trattando di quello nel canale, non sapevo se era il caso o no. Poi vabbè che all'epoca faccio un po' di video alla caccia. Anche adesso vi faccio quello che capita, quindi... Potrei, che effettivamente mi sembra la tattica migliore. Alla fine sono dell'idea che puoi fare video... Cioè, se fai dei video su cose che ti interessano e che... Su cui hai effettivamente voglia di fare i video... Funzionano. Se ti forzi a fare video su roba di cui non te ne frego un cazzo, non funzionano. C'è un cazzo da fare. Cioè, la gente se ne accorge quando... Quando parli di roba di cui non te ne frego un cazzo. Se volete una flash drive, entrate da scav su custom che ve la do. Ho solito ammazzato che mi ce l'ho nel rig. Che uscite hai? Mi devo andare a camperare all'uscita. Comunque ZB e compagnia. Quella è da quella parte là. ZB Old Gas Sono spawnato dalla barca, quindi ho quella dall'altra parte. Salve, che famo. Saranno fatti i miei. Eh. Mi scusi. Sto facendo il giro cassaforti, tutto qua. Mi stavano degli oggiati per il capo e li sto cercando. La roba di... Eh, semplicemente il falò. Sì, sì, è il falò. La chiave 314 ce l'hai? È la marketer 314, sì. È la 314, vero? Sì, sì, ce l'ho. Sì, non ho aperto perché ero già pieno. Non c'era la macchina. Quindi si trovava qualcosa di troppo pesante. Tipo una... Una mochese o simili. Era una rottura di cazzo. Portamelo fino all'uscita. Ho lo zaino piccolo e... Ho evitato per quello. Dezzi, ti piace? Non... No, non c'ho mai giocato e vorrei giocarci. Da vedere non mi piace molto. Da vedere... Non ci stanno più uova nel mio culo. Va bene? Fatevi una ragione, non so più dove mettere le uova. C'ho 3 uova nel culo. Basta, non ce ne stanno più. Fine. Va bene? Sono tonde, sono comode, sono lisce, sono levigate e tutto, ma... Basta. Ciao, Luca. Cazzo, stanno tirando le flash questi. Gli scavi di questi venti sono troppo forti, ti congelano e ti spawnano dietro. Sì, sono... Vabbè, sono fatti a posto per essere stronzi così. Tentina, secondo me si sta menando là. Sicuro. Noi ce ne sbattiamo e andiamo via. Qualche consiglio per un 33% survival rate con 300 ore di gioco. Tutto normale. E ignora i survival rate perché non serve a niente. Se vuoi sopravvi... Cioè, diciamo che... Cioè, il survival rate detto così non serve a niente. Il survival rate conta se dici... Oggi voglio solo sopravvivere... Punto. Non faccio pvp, non voglio sparare, voglio solo sopravvivere. Allora in quel caso, devi risolvere tanto. E invece giochi normalmente per fare pvp, quest... E uccidere scav... Su survival rate non conta niente. Puoi avere lo 0%, ma se entri e fai quello che devi fare, va bene. Serpentallo curioso. Per cui ho avano la mia americana. Per cui ho avano la mia gallenda. Per cui ho avano la mia magia. Per cui è la mia pagina. Il suo suo wiper è a livello 20 con tutti i 3 della luna, no non è normale c'è qualcosa che non va pane e cipolla pane e cipolla chissà da dove viene questo ho dovuto tutto per tardi, va a fuso si ce l'ho sto con una scarpa e una ciavatta, si dice l'ho capita capita ci siamo passati tutti vai tranquilla buon unsuka buon unsuka ma faccio lo cazzo ma distrutto madonna ma ne cipolla comunque non ha valutato un cazzo di niente lo ha proprio zaino vuoto cosa stava facendo? ah c'aveva la cappa stava facendo gli scappi cazzo sarà saranno quelli dell'evento o no? non credo almeno no cioè quello no eh perchè ci sono perchè spawnano qua comunque quelli dell'evento via voi potete trovare Tarkov nei 50 da nessuna parte non comprarlo sui siti esterni perchè rischi il bann Tarkov costa 65 sul loro sito 52 più tasse ed è l'unico modo per comprarlo sarà le skill issue? no se dipende te lo dice perchè non hai un livello di trader o è il tuo livello o è il quanto hai speso con loro o la reputazione con loro ci sono queste tre cose che su instant ti ripeto se compri il gioco non dal loro sito rischi che ti bannino se vuoi farlo fallo però poi quando verrai su disco la dici ho comprato il gioco su instant gaming e mi hanno bannato noi ti risponderemo sfiga ride plane si la prima persona che mi ha visto dopo 14 minuti che era il tipo sdraiato la no sono tutti morti i ride o vai dove c'è l'evento che allora magari c'è un po' di gente ma per il resto non c'è un cazzo spero che se vuoi finire le quest o simili non succede molto adesso periodo un po' morto la mia parte le quest chiedono di uscire vivo quindi riesco ad aumentare la rap se sopravvivere fosse semplice non sarebbe Tarkov ma perforato l'armatura di qui lo scout sniper bastardo la distrutta mappe da evitare con l'evento in realtà sulle zone da evitare perché non devi andare dove ci sono le robe dell'evento però ovviamente più piccola è la mappa più hai possibilità di trovare gente che va a fare l'evento però sì piccato devi guardare dove sono i falloi evitare quelli interchange no non piace a nessuno a qualcuno piace ovviamente però però no interchange e light house sono le due mappe peggiori sotto la maggior parte dei punti di vista che troia non mi sta comprando roba nove cose rotte no primo momento no primo momento non c'è niente di rotto almeno non più del solito mettiamola così ma questi teniamo altra roba da tenere questi questi vabbè corvetto lo teniamo e direi basta questo vabbè lo io no chi se ne frega alla fine si che così game changing è probabilmente rama più forte ma ce ne sono talmente pochi perché è difficile da comprare che sti cazzo e non è così più forte di un mdr o di un fall che sono le altre due considerate tier 1 al momento quindi in realtà cambia il giusto partire la pubblicità su twitch mentre c'è un caricamento vorrei tornare a giocarci ma se non sbaglio dicembre hanno wipeatosi fine dicembre non so quanto passi stavano avanti come sempre giugno luglio interchange è un suicidio eh interchange è brutta forte ha tantissimi problemi con la mappa è particolare comunque c'è gente a cui piace tantissimo come ambientazione io giocherei un sacco interchange se solo la mettessero a posto con il mio problema è che non ci vedi in cazzo adesso è migliorata parecchio anzi adesso secondo me è molto più godibile di prima però c'è gli scav player che spawnano 5 minuti che ti rushano e non ne frega un cazzo giustamente gli scav e quindi ti pushano come dei maledetti non c'è loot perché non c'è un cazzo da lootare cioè o trovi le due gpu oppure sti cazzi le uscite sono iper camperabili quindi insomma intanto per mettere a posto dovrebbero far spawnare sempre la macchina quello sarebbe la prima cosa macchina 100% hai già risolto un problema perché ho instagram mi arrivano le notifiche qualcuno ti ha mandato un messaggio tizio ti ha mandato messaggio apro non ci sono messaggi nuovi provo a refreshare niente vado dal pc lo vedo poi magari fra tre giorni arrivi il messaggio sul cellulare quello di tre giorni prima mi arriva la notifica apro io ho il messaggio solo a me lo fa c'è gente che camper è uscito ma voglio inobbligati pochissimi sto wipe devo essere sincero e nel 90% dei casi quando qualcuno dice che gli ha camperato l'uscita era semplicemente qualcuno che l'ha visto prima per caso perché passava di lì e e l'ha aspettato però sì ci sono molte uscite iper camperate deja vu come prima che ho lottato sto scavo sono morto guardiamo ditemi che ho questa uscita ovviamente no cazzo lascia uno degli oggetti che mi manca per il cap io direte oh poi l'ho trovato 700 sì anch'io l'ho venduta è andata a fanculo ma non ci credo ma tra l'altro lo sei frizzato per tipo un secondo e mezzo ma pensa te che roba pensa te che roba dai il PMC qua sopra che avevo trovato l'ascio ma vaffanculo ma vaffanculo comunque nel momento in cui ho iniziato a spararmi sei frizzato e mi sono ritrovato tipo un metro in là senza poter far niente devo riavviare il gioco perché sta andando a merda dai pensa te cazzo quel time di 33 minuti cosa indica il tempo ma stai guardando la mia guida ma o ti facevi una pugnetta mentre stavi guardando la mia guida perché c'è qualcosa che non va qua quel timer di 33 minuti poi dipende 33 minuti dove dov'è il timer quello che vede in raid è quello che hai per estrarre sì fuck come le avviare sto gioco pensa te hai trovato la ascia lì sopra o mai hai trovato un PMC in quel posto sono andato di un tranquillo non ci ho mai visto nessuno non lo luta mai nessuno col posto sono soldi di scav prima custom con tutte le granate no probabilmente erano i cosi dell'evento era la gente che farmava per l'evento i goons secondo il tracker sono ancora shorn poi a squadra ci avrà trovato 4G più e la gente le ignora sì sì non c'è mai nessuno ma perché è un po' un posto inculato poi devi andare a piano di sopra quindi se qualcuno arriva da sotto sei oh ah custom è vero ah un sito dice woods l'altro sito dice custom custom c'è solo una segnalazione però effettivamente il casino di prima era parecchio casino andiamo andiamo a vedere dai facciamo un giro ciao amzir sono andato da un pochetto di lavoro e da un pranzetto come va? beh insomma avevo appena trovato l'ascia che mi mancava per il capo sono morto poteva andare meglio potrebbe andare molto meglio ma anche molto peggio guardiamo il lato positivo custom woods shorn e le tausi ma c'è per nintendo switch? no c'è solo per gameboy però è il primo eh quello tipo del 90 si chiama il gameboy adesso guardiamo se c'è un'altra segnalazione il problema è che andarci con l'MP7 ma cazzo fai ammazzare i goons con l'MP7? devi farti vedere poi farti pushare 89 poi ma guarda l'HF1 si il primo il core no no proprio il primo primo merdoso quello brutto brutto preso rigorosamente con tetris dentro l'alimentare ma anch'io già non mi ricordo assolutamente che gioco però si anch'io ce l'avevo da piccolino beh per forza dai cazzo che figata era vendere la roba quando nessuno gioca è una rotura di cazzo perché devi vendere una cosa alla volta e pregare Dio che te le te la comprino allora torniamo torniamo a modalità goons torniamo un attimo a modalità goons facciamo così mi hai pensato mi sembra una bella arma di merda quindi farei così al momento non aspetta lo sto facendo questo lo tengo farei così e poi prendiamo non ho ormi decenti ma prima non è che mi fosse piaciuto il falso ero sincero non che ci abbia fatto molto ci sono morto da da uno scafuffo quindi quelli incazzati quindi facciamo così castro non ci andiamo rigorosamente casinisti ripeto poi l'ergo altissima quindi volendo potrei mettere qualcosa che mi toglie più recoli invece che ergo ma tanto non c'è un cazzo da mettere sul fal però posso mettere il caricatore gigante possiamo mettere il caricatore gigante che brutta arma andrà a vedere ma tutti questi cazzo i caricatori perché non li vendo io sto prendendo i caricatori da me il P5 cazzo i caricatori da me il P5 non toglie 9 lo spectro dai ci sta perché no ma custom può aver senso qua c'è tutto andiamo potrebbe andare di notte effettivamente vabbè ciao Andri ciao Ale oh grazie mille drago mi spiace che non vada il TTS però grazie mille troppo gentile per i 10 euro oggi riproverò a sistemare non ho veramente capito perché non ho toccato niente ma da un giorno all'altro ho smesso di andare quindi oggi oggi sistemo promesso il cabinato di Tetris no non l'ho visto quello il color ci sembrava una rivoluzione fatta non ci sono gli alert come su Twitch in che senso dei follower simili sì 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 è uguale non ci sono quelli con molti canali perché quelli sono una roba di Twitch non sa insieme che denigra i miei natali quelli della sua consorte per manifestare origini barbariche da parte sua oltre a fare i scemi come buttano i raid beh l'hai sentito una vibrazione nella forza whatsapp web doveva aggiornare niente è morto non li sarà più no ma va ho usato prima va no le SR tutte quelle armi sono una merda sto wipe tutte quelle armi non hanno senso di essere usate perché puoi usare un fall che ha meno rinculo perché un M1 l'avevamo guardata la tier list delle armi adesso la metterò su su un canale secondario che che così ce l'ho da linkare abbiamo guardato una tier list delle armi SR25 G28 RSAS ed M1 adesso fan cagare sono intenibili e non ha senso usare quelli invece che un fall o un MDR in pratica notizie da Grayson no ancora niente a breve arriveranno ci hanno detto ma al momento niente minchia prasso sto cercando di ignorare tutte ma ma che boia l'ultima segnazione su custom non mi convince molto di Goons mi sembra abbastanza una trollata purtroppo oh ciao su custom si a crack house c'è un casino bestia infatti il problema di cercare i goons leak è che c'è di tutto lì è veramente un casino pazzesco roto vostro che ingiocabile che senso computer medio scontario gs tarkov dipende cosa intendi con computer medio lascia le spec o vieni su discord e lasciale lì che ci diamo un occhio vabbè un diavolo sul pass ah è vero che ho visto che adesso c'è diavolo sul pass io su strilo costavano 90k ieri qualcuno sa dirmi il perché perché non ho veramente idea sono stato io a fare erba c'è dell'erba buggata qua dentro uno scout che cazzo era qualcuno qua di fianco il nostro marino non lo sopporto scherzavo prima quando ho detto che era decente quindi ma abbiamo visto no abbiamo visto cazzo non si vede niente lì dentro ah non si vede un cazzo si ferma sul cadavro i colpi mi sa di sì secondo me sì eh non so se ho ammazzato quello dietro oppure no però secondo me si fermava sul cadavere vedevo comunque il sangue non saprei neanche dove altro andare onestamente ok risolto il problema ah vuoi caricatura 50 tra l'altro ho dimenticato ho ricaricato un po' a caso eh voglio caricatura che prendo io ecco uno perché gioco più nei cheater perché la gente ci fa i soldi citando e perché la gente c'è il cazzo piccolo purtroppo è l'unica risposta che posso darti ma l'rdlora c'è l'rdlora a parte fa schia si no fa niente pegna su questo e basta questo può tenere questo c'è lo slap sopra no ma l'avevo trovato no niente andiamo a vedere cosa succede c'è vedi quando dico che fa il pvp ho probabilmente perso più soldi di quelli che ho dannato no vabbè adesso no magari perché sto qua c'eva sto elmo ma per il resto c'è cazzo potete dargli su un po' di gear da usare forse ma far pvp ti fa sorpedere soldi in sto gioco è impossibile guadagnare soldi facendo pvp io sono 47 kg adesso non si sa per quale cazzo motivo che merda perché voi direte eh ma porto fuori più roba e come non cammino se mi portavo fuori qualcos'altro non camminavo più già anche l'arma ho dovuto buttarla apertare guarda qua non tiro neanche più su la mia c'è eeeh ho avuto la via ah vaffanculo ho avuto la via qualcosa come fa pesare un chilo quello tre chili l'MP7 rotto tra l'altro cioè eeeh ho avuto la via eeeh ho avuto la via eeeh ho avuto la via è entrato sono due sono due ero convinto fosse andato a destra fanculo che idiota che sono ero convinto fosse andato a destra invece era tornato indietro non so oggi fa sto veramente facendo schifo marmellatina sto veramente facendo schifo col pvp ero convintissimo di averlo visto andare in là invece la luce mi ha fregato andiamo in 72 infatti il cazzo mi ha ammazzato in fretta no ho proprio giocato di merda oggi va così il fan di radici sarebbe da togliere secondo me secondo tanti è un sistema che è un po' una merda no ancora niente sono nuovo su starcov e sto per mollare se sei nuovo calcola che il 90% di quelli che pensi che stiano citando in realtà non stanno citando all'inizio è normale ci sono tanti altri problemi che sembrano cheat ma non sono cheat fra desync, lag e cose simili calcola che che spesso è solo quello andiamo a cercare la roba che mi serve poi direi che stacco che è tardi l'arena non sarebbe male ma è gestito male purtroppo sì ciao ciao Sara sì oggi purtroppo ma è quella fase in cui gioco gioco per i nerd c'è un cazzo da fare una volta che inizio a giocare così purtroppo giochi male anche adesso sono andato a caso perché non mi interessa troppo e invece se pensavo due secondi lì c'erano 200 cose migliori da fare gli potevo tornare indietro e pushare quell'altro oppure aspettare questo non ha avuto senso andare avanti sono andato avanti solo perché dalla luce mi sembrava che questo si stesse infilando nell'angolino a destra per aspettare il suo amico e invece no proprio giocata a caso il dato mi ha fregato perché credo tirasse dritto e invece nel mio corridoietto invece è andato a destra lì c'è proprio a caso camping vlog simulator ma cosa vuol dire? cioè devi registrare le tue avventure mentre fai campeggio ma che videogioco è? ma cosa vuol dire? che cazzo è? a caso proprio ehi gg vedi tu? eh gg ho giocata male sotto ogni singolo punto di vista andiamo guarda se ritroviamo un'altra volta l'ascia magari senza morire stavolta va che lo so che anche se trovi i goons poi i due oggetti che mi mancano ci metto un mese a trovarli qualche impostazione per vedere meglio il buio? comprare un visore notturno l'unica cosa puoi metterti lì a cambiare un po' i settings in video ma lascia la trovo su factory ma lascia in realtà il problema minore cioè quella si basta spammare spammare da scav e prima o poi la trovi sono gli altri che chissà quando e come li troverò eh lo voglio manco una non c'è per spettare in borsa no purtroppo no 700 oggetti da streamer tranne quelli che mi servono negli ultimi giorni ovviamente com'è giusto che sia lì che chiave appena eh ma di leone li abbiamo trovati però se fossero possibilità di in borsa avrebbero tipo la metà dei player ma mi sa anche ma si è un gioco del genere è un gioco del genere lo in borsa tutti pensa quando c'è stato il boom il primo boom quando Power ha iniziato a giocarci mi ricordo sul nostro discord quando c'è stato quel quel Natale che tutti ci giocavano letteralmente ogni streamer al mondo stava giocando a Tarkov quindi anche Power e tutti gli altri italiani che assolutamente giocano a COD e robe così abbiamo siamo passati tipo da 1500 persone su discord da più di 4000 c'erano i canali erano sempre pieni imballati almeno 40 persone ogni giorno che giocavano a Tarkov nei canali vocali non voglio neanche pensare a quanta gente l'abbia comprato in quei giorni e in quanti avrebbero poi chiesto il rimborso perché sappiamo il perché purtroppo sappiamo il perché i soggetti ti mancano Asha, Lootlord e Asha, Lootlord e Rat Poison no è Rat Poison l'ho trovato un altro che non mi ricordo Asha, Lootlord e mi ricordo vai il terzo te l'ho salvato secondo me ah il portafoglio Willards venduti vuoi neanche pensarci vuoi neanche pensare quanti ne ho venduti allora secondo Shif che è una delle probabilmente quattro persone con più ore al mondo su questo gioco ed è uno dei più esperti che conosce meglio il gioco e tutto secondo lui le prime mille ore non riesci a divertirti e capire che cosa fare o capire veramente come funziona il gioco dalle 3000 ore in su diventi bravo nel pvp puoi considerarti forte nel pvp queste questi sono i suoi numeri oh cabano cabano quelli scav vabbè continuiamo con il nostro piano no ma non è cabano era solo qualcuno a caso che sparavo vediamo la relax effettivamente dovrei spammare un po' la relax qua su street ci sono un sacco di spawn rari dentro e dovrei trovare quello che mi manca in realtà il portafoglio non ce l'ho mai visto dentro però il pupazzetto si o no chi lo sa chi lo sa chi lo sa ci sono altri ci sono altri strassi un shooter come hunt con cui magari per farti un'idea su come funzioni quel genere di giochi si esatto però ci entra molto poco c'è su hunt se estrai muori cambia relativamente poco ti do ragione appena sono quasi a mille e solo ora giro contro qualità che mi godo il gioco prima sempre con attacchi cardia e chiappe strette esatto 3.000 diventa forte in pvp come abbiamo visto prima no ma darò la colpa al fatto che dai l'hanno aperta palle darò la colpa al fatto che sto giocando un po' a scazzo dai mettiamola così ovviamente no la volta che trovo la chiave l'hanno già aperta ehhh oggi intenibili eh si beh dipende anche quanto pvp fai e altre cose certo no è che adesso non mi sento proprio sicuro nel pvp cioè in passato quando giocavo tanto ed ero concentrato su pvp mi sentivo mille volte più sicuro rispetto ad adesso mi sento proprio in fondo alla catena alimentare c'è stato un periodo invece in cui giocavo tanto e facevo tanto pvp che che invece ero molto molto più sicuro di quello che facevo lì cambia da tantissime cose anche da qual è il meta se sei abituato ad usare le armi che sono in meta cioè ci sono tantissime cose poi da considerare l'altro gioco mi piace da mattitarco mi interessavo per l'ambientazione perchè è più moderno nelle armi eccetera è molto più complicato punitivo molto più stressante molto più tutto e finchè non lo giochi non te ne rendi conto è quello il problema puoi guardarlo quanto ti pare ma ti fai solo indicativamente un'idea vabbè niente di utile ovviamente andiamo verso l'uscita ce l'abbiamo qua? si beh dai guardiamo anche l'academia effettivamente siamo qua si si oggi sto ignorando cioè non ma basta cioè dopo un po basta cosa fai? ciao ovviamente mi incastro sulle cose immagino abbia già lottato tutto qua no magari questa no ma la cosa che mi sta in culo è che non ci sono scav voglio del cazzo di scav morti dove sono? non ci sono non esistono mh che troia avevo gli scav per cercare oggetti senza scav non trovo oggetti vabbè andiamo a uscire qua ormai ah ma quell'insegna ristorante giapponese esiste anche veramente che nego... che ristorante è? l'ho vista da poco non è uno che esiste vuoi che sono tutti uguali però boh ho fatto delle sacche o qualcosa qua in giro non ne ho mai girato in sti posti mh proprio no vabbè che non si sa visto che adesso c'è la roba dinamica che ogni tanto la trovi ogni tanto invece c'è l'addetto alle pulizie che che non lascia il loot che non lascia il loot oddio no ecco non sono spariti non si sa si esatto ah ne avevo messo a posto la chat che c'è la roba tagliata lì allora crop top ah la sposta però va bene così la chat no si è spostata in alto bastardo no così 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 ok così ci piace ah la sposta è la super posta poi si chiede per che lo ignoro vabbè sfruttiamo tutto poi facciamo poi faremo mi sei consapevole è vero è vero tecnicamente è vero va bene io me ne vado è stato un piacere però il tempo per me è di andare a fare cose costruttive invece che giocare a Tarkov tipo andare su Pornhub per capire come streamare su Pornhub così la prossima live la facciamo anche lì va bene grazie a voi grazie a tutti grazie a compagnia grazie a e sub follow beat soldi e compagnia grazie mille ci sentiamo domattina se tutto va bene dopo domani mattina adesso vedo ma in teoria dovrei tornare più o meno con gli orari normali quindi mercoledì e venerdì mattina e niente ci sentiamo telegram discord eccetera altri social per chi c'è gente è un casino perché adesso ogni volta devo aprire sette dashboard per chiudere tutte le live va bene è stato un piacere anche mio ci sentiamo la prossima ciao ciao go live ciao plusante che dice go live non devo andare live devo stoppare la live